Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda, di Mac, benvenuti giovani e di Ale. Ciao ragazzi. Benvenuti, ragazzi, ci siamo quasi, questo è l'episodio 99, siamo vicinissimi alla centesima puntata che verrà degnamente festeggiata il giorno, segnate, 9 maggio ore 21, è un giovedì, quindi sarà, sostituirà la puntata solita e naturalmente registreremo tutto il contenuto di quella serata e lo ripubblicheremo in modo che tutti quanti possiate comunque ascoltarvi la puntata numero 100 con comodo anche nei giorni successivi. Perché verrà trasmessa in diretta su Facebook. Avremo ovviamente la solita diretta audio video, dalle 9 pensiamo alle 10, 10 e mezza a seconda di quanto durerà, non ci facciamo troppi programmi. Si tratta anche un po' di tempo, non facciamo promesse. Tutte queste cose potrebbero subire variazioni fino all'ultimo secondo, ma vi informeremo. Se siete stati attenti e avete visto che è uscito l'evento già settimana scorsa su Facebook, lo confermiamo, il 9 maggio ore 21 siamo in diretta. Ci sarà diretta anche solo audio su Spreaker per chi magari non avesse la possibilità di seguirci via Facebook, non avesse voglia di seguirci via Facebook oppure volesse seguirci. Se siete in auto, in aeroporto, in palestra, potete farlo lo stesso. Vi collegate a Spreaker, vi collegate al nostro sito, lì c'è il click per collegarvi allo streaming e sentite tutto in diretta streaming. E naturalmente noi faremo di tutto per essere più vicini anche. Più multimediali possibili. Esatto. Come di solito facciamo, insomma, e come abbiamo fatto per esempio recentemente per Modena. Esatto, sarà la stessa identica cosa che a Modena. Io sono molto carico, ragazzi. Sarà una puntata in cui vedremo le nostre puntate preferite, rivedremo un sacco di giochi che abbiamo visto nel corso degli ultimi due anni. Che ora saranno cresciuti, chiaramente, perché all'epoca era l'ancio, adesso sono degli scatoloni enormi che vanno alle medie. Quasi sempre così. Sono degli adolescenti problematici. Esatto, esatto. Alcuni sì. Prima di iniziare con, detto dell'episodio 100, volevo salutare e ringraziare tutti quelli che ci hanno mandato le foto dei bottini di Modena. Noi abbiamo avuto i Patreon che ci hanno mandato appunto tutte le foto e abbiamo fatto un po' un bilancio di quello che è arrivato. Sono arrivate una ventina di foto, eccetera. Io devo dire, ragazzi, tutte robe, molti sono chiaramente colpa nostra. Beh, i Nagaraja, i Cryptid sono colpa nostra. I Cryptid e i Wingspan sono... Anche le serie di Elvetic, ammetto che probabilmente un po' di colpa ce l'abbiamo. Esatto. Ci sono anche tanti di quei libretti tipo Sangue Reale e il Primo delle Stelle, come si chiama? Aspetta. Quello che prima ti ricordavi e ti eri dimenticato Sangue Reale, adesso... Esatto. Adesso controllo. Sono i nuovi libretti le versi della MS Edizioni. Paceship Arcana. Stellare qualcosa. Roba pesa. Mappe stellari. Mappe stellari, grazie. Usate il cervello di banda, non so come mi è venuta, ma... Quando non vi ricordate un nome basta che chiamate banda. Questi libretti sono libretti Roll and Write con una piccola componente legacy, mi pare di aver capito. Sono cose abbastanza originali, divertenti. Sì, ma sono competitivi, credo. Uno contro uno. Due persone, esatto. Due persone, uno contro uno. Hanno una grafica un po' orleanisca nella loro opera mia. È vero. Sono proprio però dei libretti, quindi questo mi ha abbastanza stupito. Io vorrei chiedere a quelli che ci hanno mandato le foto di questi mappi stellari o Sangue Reale, se vi sono piaciuti scriveteci due righe e poi ne parliamo. Sembrano poi i libri delle vacanze che ci davano a scuola per l'estate. Esatto. Ho visto moltissime escape room, quella di cranio abbastanza spaccato perché comunque ovviamente visualmente e matericamente era la più falsua in modo egregio. Anche lì aspettiamo i vostri feedback e ovviamente ragazzi Cryptid, cioè i nostri fan sono dei talebani perché per prendere Cryptid bisognava essere praticamente davanti ai cancelli alle 8 e un quarto. Io ho il sospetto che qualcuno si sia infilato sotto i tavoli della Magic Comics oppure della Play Game e sia rimasto là durante la notte perché non mi spiego altrimenti. Ragazzi comunque le copie che abbiamo preso a un'ora impropria del venerdì non le abbiamo vendute, non abbiamo creato uno smercio di copie di Cryptid. Sono le nostre, ce le siamo ottenute e fine. Ricordo che tu Jack hai attraversato la fiera con le due copie in mano perché noi avevamo preso due. Sì, con il rischio di essere... C'era gente che ti guardava e non sapevi se guardava lo stemma sul tuo petto o i Cryptid. Pensavano sempre nel solito paraculato. Esatto, certo. Va bene ragazzi faccio un breve recap. Sabato siamo a Piacenza a GiocaCon, tutto sabato 4 maggio. Siamo lì, ci trovate col nostro banchetto all'interno della manifestazione che tra l'altro avrà un botto di ospiti e un botto di... Sì, un sacco di genere. Cosa portiamo oltre al boy Mac? Black Rose Wars? O no perché c'è già lì l'autore con Black Rose Wars? Io ho parlato con Marco Montanaro perché purtroppo per un piccolo incidente diplomatico la mia copia verrà spedita tutta in unica wave. Eccola la tristezza. Ma Marco mi ha detto ragazzi non c'è problema quando arrivate a Piacenza venite da me, io vi do una copia, la aprite là e ci giochiamo. Quindi ecco la prima ora Mac sarà impegnato a defustellare Black Rose Wars. No io, lui si fa il boy, lo festello io. Comunque ragazzi, assolutamente, comunque giochi non banali, tutta roba, tutta creme della creme, come sapete, giochi di cui abbiamo parlato. Miniatura su Mappa e Guns Sean Clever. E tra l'altro ringraziamo in anticipo quelli che vengono a trovarci perché parte dell'intervento di il boy sarà basato anche sulle esperienze fatte durante GiocaCon. Il 2 giugno saremo a Trento. Al Muse. Al Muse. Al nuovo museo della scienza, credo, della tecnica se non erro. Esatto. Che è un posto fighissimo. Ma andate a vedere le foto su internet. Ma veramente un posto allucinante. Roba sepia. È un museo che hanno inaugurato in realtà credo da poco, comunque in anni recenti. E questi ragazzi della Tana di Goblin di Trento, che si chiama Volcan se non erro, hanno questa iniziativa. Ideato questa iniziativa. Sì. Ogni tanto tempo si ritrovano e fanno una giornata di gaming al museo in tutti i piani, usando dei giochi che siano a livello storico, a livello culturale, a livello scientifico, che aiutino i giocatori a immergersi, oltre che nel gioco che stanno facendo, proprio nell'ambiente in cui si trovano. E secondo noi questa è stata un'iniziativa veramente degna di lodo e tant'è che le abbiamo chiesto di poter unirci o come giocatori o come formatori, insomma, perché ci tenevamo a essere lì con loro. Esatto. La nostra effettiva forma di partecipazione deve ancora essere definita, quindi state qua con noi. Comunque verso metà maggio avremo tutto chiaro e vi daremo tutte le informazioni. Certo. Se siete in zona, veniteci a trovare. Ok ragazzi, che dire, ci siamo? Beh, un'ultima un'ultima notazione prima di iniziare con lo zufolo, perché dobbiamo zufolare anche questa settimana, tutto per voi amici ascoltatori. Volevo soltanto aggiungere che tutte le informazioni per diventare i nostri Patreon e per fare parte della cerchia interna si trovano su patreon.com slash Doom Witch Byers Club. Andatevi a vedere un po' quali sono le possibilità di, tra virgolette, collaborare con noi e supportarci in questo grande progetto di BC. Questa cavalcata senza fine. Che compie proprio in questi giorni due anni, fa 100 puntate, quindi insomma stiamo sbloccando un po' di milestone. Achievement, achievement. Bene, adesso però veniamo alla ciccia ragazzi perché è il momento dello zufolo. Il negozio online magicmerchant.it è sponsor di questo episodio del Doom Witch Byers Club, amici e amiche. Ogni settimana sapete che con i ragazzi di Magic Merchant cerchiamo di craftare un'offerta, qualcosa che sia abbastanza succulenta, di giochi che ci piacciono, ci sono piaciuti o che vorremmo giocare e lo facciamo per voi con uno sconto del 15% con il codice promo DBC15, Doom Witch Byers Club 15, DBC15, che va inserito per avere il 15% di sconto. Che questa settimana è valido, attenzione, su cosa? Su cosa? Su tutto, tutta la linea Village Attacks. Tutta la linea Village Attacks. Quindi qualsiasi cosa che abbia Village Attacks sulla scatola è passibile di sconto 15%. Ma è tanta roba. Ale, vuoi spiegare brevemente che cosa è Village Attacks? Visto che ne abbiamo parlato eoni fa, prima che arrivasse. È un Tower of Defense in cui i giocatori di fatto interpretano i cattivi della letteratura o comunque delle storie, del folklore europeo e l'obiettivo è quello di difendere il proprio castello da quest'orda di villani armati di forconi e torce che vogliono irrompere all'interno delle stanze e distruggere il core che lo alimenta. Esatto, di fatto collaborativo senza master, un botto di miniature molto fighe, mi pare di capire. Tanti dadi, specializzazione, quindi un gioco asimmetrico perché ogni personaggio malvagio, fra tutte le virgolette del mondo, ha propri poteri peculiari. Esatto, fa tante cose diverse. Esatto, e quindi voi di fatto dovete cercare di sopravvivere alle varie ondate che si riverseranno. Il gioco è stato sostanzialmente uno, correggimi se sbaglio Ale, è stato uno dei primi Kickstarter giganti, quelli con add-on, add-on su add-on, mini espansioni, pack di mostri, pack di eroi. Kickstarter del 2015 è arrivato in consiglia nel 2018, quindi due anni e passa di attesa, con tantissima roba, fra cui una cavalcata nell'ultimo 48 ore che hanno visto sbloccare il Troll, che è l'ultimo mostrone alto 8 cm che poteva sbloccare in campagna. Non so se sia acquistabile sul sito Magic Merchant, lo dico subito. Il Troll se non sbaglio è esclusiva, quello non ci sarà, però il resto mi pare ci sia tutto, nel senso non c'erano esclusive tranne alcune stanze e poca altra roba. Perfetto, quindi ragazzi è una vera e propria famiglia di prodotti, dal gioco base a tutte le espansioni, su tutto ragazzi, solo per questa settimana, 15% di sconto e mi raccomando, attenzione perché le nostre offerte durano una settimana dopo di che scadono. E però per l'accento poi abbiamo un servo per voi, una bella sorpresa. Ragazzi, brace yourselves. Esatto, vi rimandiamo, vi rimandiamo al 9 maggio. Quindi grazie al sito magicmerchant.it, Zuffolo, e poi si comincia! Zuffolo! Eccoci di ritorno dopo lo Zuffolo, io lascio la parola banda che inizia con un super gioco che abbiamo appena concluso, è stata una delle poche volte che siamo riusciti a fare tutta la campagna Legacy. Sì, perché ve l'ho messa giù dura e ragazzi questo qui, perché parliamo di Ionzen Legacy, un requisito fondamentale di questo gioco è partire con un certo numero di giocatori e finire con lo stesso numero di giocatori. Esatto, la campagna non è lunghissima, sono di fatto otto scenari, però gli scenari non sempre li farete a primo colpo, quindi li potrete ripetere, però diciamo che sostanzialmente è qualcosa di una lunghezza circa della metà di un Pandemic Legacy. Ora, banda, Ionzen, deck building, ognuno col suo ruolo, si gioca tutti contro i vari mostri, ma facci un po' di lore, raccontaci un po' qual è la baza. Allora ragazzi, intanto Ionzen è un deck building cooperativo fantasy. Voi direte, mmm, deck building cooperativo fantasy, non ne ho mai visto uno, non ne ho mai visti, ce ne sono 8000, perché dovremmo giocare questo quando il mercato è pieno di sti prodotti che da anni spopolano dai tempi di Dominion? Intanto ti dico episodio 32 del DBC. Esatto, noi abbiamo già parlato della versione War Eternal, che era il secondo corset uscito nel 2017, sempre via Kickstarter, e di cui vi avevo già tessuto le lodi. In realtà è il prodotto originale, da cui tutta questa saga, perché proprio è una vera saga che si dipana negli anni. Ionzen è del 2016, anche se il Kickstarter, se non erro, è cominciato nel 2015. All'epoca Kevin Riley e Nick Little avevano, Nick Little, hanno portato alla Pax Convention in America un prodotto di loro invenzione che si chiamava Discord, che era appunto un deck building in cui tutta una serie di maghi ultra testosteronici e cazzutissimi si scontravano, quindi accumulavate carte, spell, botte da orbi. E un collaboratore di Action Phase Game, che è Travis Chance, che è sostanzialmente responsabile del background dei giochi dell'Action Phase, è arrivato a parlare con Nick e Kevin. E gli ha detto, beh, questo prodotto, devo dire la verità, non è male. Però gli ha fatto la fatidica domanda, gli fa, ma ascoltate, ma perché questi maghi in questo gioco di carte si scontrano? E sostanzialmente, come molto spesso accade, i game designer si sono occupati della meccanica ma non avevano una giustificazione. Non c'era la ciccia sotto. Hanno detto, beh, alla fine sono maghi, cosa vuoi che faccio? La mattina e la sera si annoia, non si prendono la palla di fuoco, se ne fanno di tutti i colori. E lui ha detto, no, aspetta, facciamo una cosa un po' più strutturata. Cerchiamo di dare corpo al background, creare un mondo che possa anche spingere i giocatori a immergersi nelle figure di questi maghi e a vederne le differenze e sentirne le motivazioni. Certo. Al che Travis Chance ha cominciato a pensare a un mondo un po' tipo quello di Matrix, un mondo di sopravvissuti, un survival, nel quale l'umanità come noi la conosciamo è sostanzialmente finita. Ma non si sa da quanto tempo, ma si sa ad opera di chi. Perché improvvisamente una sorta di mente aliena è arrivata sul nostro pianeta attraverso dei rift magici chiamati bridge, quindi brecce. E questi alieni che sono, dovete immaginarle come delle entità che sono inconcepibili per noi esseri umani, viaggiando attraverso il world, sono arrivati sulla Terra e hanno ucciso tutti gli esseri umani. Easy. Le poche migliaia, le poche decine di migliaia di esseri umani rimasti in vita dopo questa catastrofe, sono tutti riuniti nel sottosuolo in una città fortezza che si chiama Greyworld, come la Zion di Matrix. Esatto, di Matrix. Però che cosa succede? Ovviamente l'uomo è esperto nell'adattarsi alle grandi difficoltà che la storia gli pone davanti. Ah certo. Allora, una casta di matriarche, come potete pensare le beneghesserit di Dune, perché l'auto, perché Travis Chance è sempre stato grande appassionato di Dune. Giustamente. Ha iniziato a capire e a studiare i rift magici da cui provenivano gli alieni e si sono accorte che l'energia magica che fluiva da queste bridge, oltre a portare grandi distruzioni, poteva essere in realtà studiata e usata a favore degli esseri umani per fare magia, cosa che prima loro non erano in grado di fare. Così si è stabilito una sorta di culto, primo culto delle, come si può dire, di queste matriarche, che hanno imparato a usare la magia per controbattere al potere degli alieni. Ovviamente, come i bramini indiani, voglio dire, questa casta è diventata depositaria di una conoscenza che di generazione in generazione spiega a nuovi apprendisti maghi come utilizzare le potenze magiche per far fronte al nemico. La bellezza è che, a differenza del gioco con maghi testosteronici, tutto basato su maschi, bianchi, caucasici, mega muscolosi, Travis Chance e i suoi amici hanno deciso di fare un background più inclusivo in cui tutti i personaggi del gioco avessero un'etnia e una fisionomia appartenente a un paese diverso del mondo. Anche perché poi si parla di un futuro assolutamente assurdo, post-atomico, post-tutto. Esatto, e che tutto fosse su base femminile, infatti gran parte dei personaggi di Ion's End sono donne. Io facevo una gina anch'io. Esatto, nonché il personaggio base da cui tutto prende vita si chiama appunto Brahma, ed è questa sciamana indiana che ha il compito di addestrare le nuove leve delle potenze magiche di Gravel. Spoiler, nella campagna fa fare tutto a voi comunque, non è che voglio dire... Nel 2016 e nel 2017 sono usciti i primi due corsette che sono appunto il gioco base Ion's End e poi Ion's End War Eternal, in cui si pensa a dei maghi che sono arrivati addirittura dal warp. Quindi nel tempo, qual è la figata? La figata è che Chance ha creato un team di maghi a cui i giocatori si affezionano, perché ogni mago che voi utilizzerete ha una propria storyline, ha una propria backstory e più il tempo passa, più la sua storia si modifica e il suo modo di combattere gli alieni è molto diverso e i motivi che lo spingono a combattere sono motivi egoistici o motivi altruistici. Lui pensa solo a se stesso o pensa al bene dell'umanità, però dovete immaginare che tutti gli stilemi che vengono utilizzati per esempio in serie come Walking Dead, qui sono trasposti, però con personaggi che invece di usare i coltelli e i fucili usano la magia. Powerplay, sì sì. Sì, beh, magia pesa. Anche se in realtà dopo ci sono degli aspetti che mi piacerebbe discutere con voi sulla potenza che hai in questa campagna. Allora, innanzitutto Ion's End Legacy sarebbe il terzo prodotto di questo duo Riley e Little. Certo. Però, in realtà, è quello che secondo me, e non solo secondo me, funziona perfettamente come introduttivo gateway per chi si approccia per la prima volta ad Ion's End. Perché pur essendo un legacy, quindi ragazzi un sacco di adesivi, regole che si aggiungono, classico come pandemiche, solo che qui non ci sono elementi che si distruggono, ok? Ci scrivete sopra le carte fatte e abbrigate. In realtà il gioco è proprio strutturato per condurre mano a mano il giocatore da quattro semplici regole fino al gioco completo di Ion's End. Quindi nel tempo di sette scenari lui vi porta a essere da apprendisti maghi, pipponi, che vengono aiutati dalla possenza magica dei più grandi bridge mages in circolazione, che sono quelli con cui avete giocato e conosciuto nei precedenti capitoli, fino a diventare voi stessi, proprio maghi da prima linea, cazzutissimi, cioè gente che va in giro e ne fa di cote di crude, tant'è che noi negli ultimi scenari facevamo delle cose epocali, cioè Mac faceva il DPS della corazzata Yamato, mentre all'inizio ovviamente è molto difficile ingranare, devi farti il deck del resto, è un po'. Inoltre vi dico già una cosa, per tutti quelli che si lamentano, eh ma spendo soldi poi i legacy non li posso più rigiocare? No, Ion's End Legacy, a differenza di altri legacy a cui siete abituati, è strutturato perché una volta concluso il gioco, voi potete scartare tutte le carte e tutta la componentistica legacy e utilizzarlo all'infinito come fosse un corset normale, figata, pazzesca. Veniamo a noi, parliamo di un deck building cooperativo fantasy, quindi da 1 a 4 giocatori collaborano con un classico sistema di deck building, quindi mercatino, con 9 carte, avete carte che vi danno più valuta per acquistare altre carte, carte che fanno da support per i vostri compagni e carte che invece sono proprio il DPS, quindi il danno puro che fate al boss. Voi avete dei deck che andate ad arricchire nel corso del tempo, che vi permettono di comprare sempre più carte, performare sempre meglio, scrappare carte, fare danni ingenti, finché di scenario in scenario, lo scenario è sostanzialmente una boss fight, quindi c'è un boss enorme che ha di media dai 60 ai 100 punti vita e dovete ucciderlo prima che lui uccida voi, vi permette di proseguire con la storia, perché a differenza dei capitoli precedenti in cui sconfitto il boss e il boss muore, qui ogni volta che i boss vi vengono serviti con un certo ordine ben preciso e una volta che voi li sconfiggete, la storia va avanti, vi viene raccontato che cosa accade adesso, come i vostri personaggi acquisiscono nuove abilità e quindi apri nuovi inserti, tiri fuori nuovi token, metti degli adesivi sulle schede, acquisisci nuovi poteri, cambiano le carte del mercatino, cambiano i mostri eccetera, e c'è tutto. Ma realmente decidi anche tu come formare il tuo personaggio, perché attraverso i poteri speciali che si sbloccano, i poteri speciali sono sostanzialmente delle mega etichette che contengono 8 adesivi e in 4 voi scegliete quelli che volete fare per voi e come volete giocare le prossime partite, questa è una delle cose belle ma poi ci storneremo. I maghi di Ion's End, i corset base non legacy, sono tutti molto asimmetrici, cioè hanno degli stili di gioco completamente diversi, ma oserei proprio dire radicalmente, tant'è che alcuni sono più consigliati per il solo game, modalità in cui questo gioco funziona da dio, molti sono invece consigliati per il multiplayer perché ovviamente ci sono personaggi più dediti a curare gli altri, fare da support eccetera. Altra caratteristica peculiare di questo gioco che secondo me lo rende il più bel cooperativo deck building in mercato a oggi è il fatto che mentre voi incamerate continuamente carte da mettere nella vostra discard pile come in ogni deck building, voi non siete obbligati tutti i turni a giocare tutte le carte che avete in mano, quindi c'è una componente di end management, di gestione della mano che negli altri deck building non c'è. Inoltre una volta che voi avete terminato le carte del mazzo e dovete riprendere quelle della pila degli scarti che avete arricchito con le carte del mercatino, questa pila non si rimescola mai. Questo è importantissimo perché quando il giocatore gioca le carte dalla propria mano l'ordine con cui le deposita nella discard pile è un subgioco perché lui va a creare delle future mani di carte che vengono costruite in base all'ordine con cui lui gioca e scarta le carte dalla mano. Questo ragazzi lo rende un gioco fantasmagorico perché ovviamente voi tenderete a concentrare statisticamente le carte che vi servono in delle mani super potenti, sicuramente a questo fanno da contraltare alcuni turni mega fonfi in cui comprate, però a differenza di un deck building in cui siete nelle mani di dio, qui se voi volete fisicamente dire ok fra tre turni voglio pescare la mano di carte più esplosiva che ho nel mazzo, lo potete fare perché potete decidere quando e come costruirvela programmandola nel tempo. Assolutamente. Ecco, altra cosa, una cosa secondo me eccezionale di questo titolo è la sinergia che si va a creare tra i vari personaggi perché ognuno di questi personaggi alla base, oltre ad avere uno stile diverso, ha anche una mossa speciale diciamo che qui si chiama, come si può dire? Beh sono il charge, esatto, è come la ultima dei vari picchiaduro insomma, ognuno di noi ha un potere speciale che viene caricato nel tempo pagando valuta che una volta che viene sparata consente di curare altri personaggi, di fargli pescare più carte, consente di fargli sbloccare le bricce, eccetera. Tra l'altro la scegliete voi, cioè a un certo punto il gioco legacy ve la mette a disposizione perché succedono delle cose nella storia e voi vi equipaggiate con questa mossa finale che richiede però tempo e risorse per essere caricata. Perché all'inizio voi partite tutti e quattro con personaggi assolutamente uguali tra loro e completamente anonimi, nel tempo invece grazie all'uso di adesivi e di diverse spec inevitabilmente le vostre abilità inizieranno a definirvi e anche l'equipaggiamento ed altre cose, tra l'altro equipaggiamento che vi viene donato attraverso l'uso di sticker da attaccare appunto nella scheda personaggio. secondo me questo gioco qui, proprio il core set legacy, è quello innanzitutto io trovo scandaloso che nuovamente non sia mai stato portato in Italia persino nelle precedenti edizioni perché è incredibile in quanto il gioco è facilissimo da spiegare, non ha realmente meccanismi complessi o regole contraddittorie. Però ci sono tante carte, tanto testo, per esempio hanno portato in Italia Clank, non si capisce perché questo qui non l'abbiano portato, hai portato in Italia Dominion che ha un triliardo di carte e di edizioni, non si capisce perché non hanno portato questo. Sicuramente, come abbiamo capito negli ultimi anni, magari, che ne so, la Indie Boards and Cards e la Action Face ti chiedono un miliardo di clienti o comunque ti chiedono di vendergli almeno 2000 copie e tu sai che questo prodotto non lo puoi vendere, anche se personalmente, per come conosco i deck building, io credo che se questo prodotto venisse portato in italiano per la facilità con cui lo si spiega, la facilità con cui lo si intavola e lo si gioca, secondo me spopolerebbe perché è un gioco bellissimo. Forse il formato Legacy nella nostra cultura spaventa un pochettino, però come hai detto te alla fine diventa un gioco normale, cioè una volta che è finita la campagna ve lo potete rigiocare all'infinito e il materiale presente all'interno della scatola è tanto, cioè non è che vi rimane un giochino con due boss, e poi ci sono tutte le versioni potenziate dei boss che vi potete fare una volta one off, potete decidere di farvi una mini campagna di tre boss, oppure giocare finché non perdete. Ecco, per farvi capire la potenza di questo gioco, quando voi aprite una scatola di un qualunque corset, gli autori vi hanno già preparato un mazzo pronto da sbustare in cui dentro avete le carte in mano e nel mazzo di ogni giocatore già disposte, le carte del mercatino e tutto quello che riguarda il boss già predisposto e setupato, voi dovete solo aprire questo mazzo, mettere le carte in tavola e potete partire a giocare. Nella versione Legacy addirittura voi iniziate i primi scenari con un terzo delle regole base che sono già pochissime, ma proprio per introdurvi passo passo, tipo tutorial in questo mondo, i primi tre boss che voi farete, che sono comunque molto belli, generalmente la sfida è davvero accesa, è dal quarto in poi che cominciano le grane e come chiunque abbia giocato a Dayon Zen nelle precedenti edizioni vi può confermare, il bilanciamento tra la vittoria e la sconfitta di ogni scenario è incredibile ed è una caratteristica che a me personalmente ha sempre abrasato, perché normalmente o arrivi troppo gagliardo e hai la meglio sul boss troppo facilmente, o il boss è troppo forte e tu muori e non sai come riavermi. A mio avviso, facendo un grande bilancio di campagna, per me ce n'era solo uno che aveva dei problemi. Rotto, era fattibile perché siamo arrivati vicini, però... Sembrava bilanciato non benissimo. Esatto, soprattutto perché in realtà poi vedendo anche quelli dopo, siamo riusciti a vedere tutta l'escalation del boss, quello era veramente un po' un'anomalia, però non è che non vi divertite con questo boss, comunque arrivate lì lì, ok? Possiamo fare un micro giro? Ultima cosa, prima del giro di... Giro di culture, certo. Ecco, alla fine questo prodotto qui, secondo me, rappresenta proprio l'eccellenza del prodotto deck building moderno che dà la paglia a tutti i suoi contendenti. Io sono molto affezionato per esempio ai Legendary, cioè Legendary Encounter, Alien, Barber... O Hero Realms... Sono, sì, no, ma quelli sono competitivi. Ah, ok, sì. Hero Realms è un mod che lo fa cooperativo, che è Ruins of Tandar. Nella loro essenza... Esatto, esatto. Però per esempio io questo qui lo posso paragonare, non so, a Legendary Encounter, Alien, che è magnifico, ma ragazzi, a livello di modernità, velocità di setup, tempo di gioco... Cioè in una serata noi facevamo anche tre scenari, per dirvi, sfida e tutto, secondo me questo prodotto rappresenta davvero un punto di arrivo, uno standard che è stato settato e da qui difficilmente non si può tornare indietro. Infatti adesso Kevin Reilly e Nick Littol hanno capito che hanno creato proprio un brand e una storyline molto amata, specialmente in America, perché giustamente qui in Italia non ce l'abbiamo, e adesso ogni anno loro riproporranno un nuovo corsetto. Adesso c'è già in arrivo... è finito da poco il Kickstarter di Ion's End The New Age, che è proprio... è un nuovo corsetto, il quarto, che narra le vicende di maghi venuti dopo Ion's End Legacy, quindi cambiano qualche meccanica, cambiano i maghi anche in modo di fare magia, ci saranno cose nuove e molto probabilmente, ma questo non ne sono sicuro, ci saranno le conseguenze di quello che voi avete vissuto in Ion's End Legacy, perché ragazzi in Ion's End Legacy succedono delle cose che inevitabilmente comportano dei cambi di storia decisivi, da qui non si può più tornare indietro, perché una volta che le cose sono andate in merda in un certo verso, da lì bisogna ripartire e farsene la ragione e conviverci, bisogna ricostruire le cose secondo altri principi. Quindi, occhio perché anche affezionarsi ai personaggi e tutto quanto, in realtà le... non si sa mai che cosa può accadere. Il mio consiglio è, provatelo se avete un'associazione ludica che magari ne ha una copia, se avete un amico, provatelo, perché guardate, questo è il top, il top del deck building cooperativo fantasy in mercato. Becchè? Beh, io sono sostanzialmente d'accordo con Banda, pur non essendo un fanatico del deck building come lui, però per me Ion's End, sia War Eternal, ma soprattutto questo Legacy, è diverse spanne superiore anche alla serie Legendary Encounter. Il fatto per me, ad esempio, che ci sia la possibilità di personalizzare il proprio mago, che tu interpreti una persona specifica, era la grossa, la grossissima mancanza dei Legendary Encounter. Qui invece c'è un'immersività molto alta, la possibilità di personalizzare appunto le tue skill e il tuo modo di giocare la partita. E noi alla fine avevamo quattro personaggi estremamente diversi tra loro, proprio come tattica di gioco, come precedenza di acquisizione di determinate carte dal mercatino. Poi c'è questa storia di questa sorta di Angeli e di Evangelion che sono i vostri nemici, che sono i vostri boss. Ma pensate che il punto di vista di Travis Chains, lui ha detto, poniamo caso che arrivi sulla Terra un'intelligenza aliena e noi non abbiamo idea di come si comporta questa intelligenza. Allora, attraverso lo studio della minaccia, cioè l'essere umano studia la minaccia e gli attribuisce delle caratteristiche umane. C'è tipo il nameless, perché i cattivi si chiamano nameless, che sembra un animale rabbioso, quindi è più feral, per cui si comporta come un leone ferito. Invece c'è quello che è tipo gli insetti, quindi live mind, che coordina. Cioè, l'essere umano studiandogli dà tutta una serie di caratteristiche, impara a girarci attorno e impara come affrontarli, cioè si adatta. Come dice Bear Grylls? Adapt, evolve, overcome, improvise, adapt, overcome. Ecco la filosofia dei bridge mages di Ion Z. Ed è proprio quello il bello, infatti, perché ci sono alcune situazioni in cui ci si infila magari in dei budelli di violenza, in cui i minion di questo boss sono inarrestabili e nonostante tutto con la giusta combinazione di carte, di giocate uno dopo l'altro, tra l'altro spettacolare il sistema di iniziativa condivisa, ecco, favoloso, e riesci comunque a svangarla. È proprio quello che dice la prima banda, cioè la sinergia che si crea al tavolo, secondo me è davvero il valore aggiunto estremo di questo tipo. L'ordine di turno casuale, ragazzi, è una perla incredibile. Alex? Paradossalmente comunque questa sinergia di cui parlava Mac è anche quella che potenzialmente vi può rendere il gioco frustrante. Lo dico perché nell'ultimo scenario io ho sperimentato questa cosa, in quanto si era creata una sinergia più funzionale fra Jack e banda, e io di fatto ho dovuto gestirmi da solo il mio motore ed ero estremamente più lento da solo rispetto a quanto non fossi in precedenza. Perché in precedenza c'era Jack che foraggiava come un pazzo. Nel senso che da una parte lavoravano Mac e banda, dall'altro lavoravamo io e Jack, e invece si è creata questa cosa per cui era più utile foraggiare la strategia con le nuove spalle che avevano sbloccato con banda, e quindi effettivamente per me l'ultimo boss è stato tanto frustrante in certi momenti perché mi sentivo poco utile al party. Però per sette scenari hai segato come una motosega, cioè questo bisogna anche dirlo. Quello che sto dicendo è che probabilmente l'unico limite che io ho visto all'interno del gioco è che tu hai una strategia e devi perseguirla in modo monacale. Non puoi assolutamente sgarrare nel prendere una carta piuttosto di un'altra. Però posso dire in tutti i deck building, cioè non puoi dire da un colpo al cerchio non ho la botte, cioè in Dominion c'è la big money. Eon Sand estranizza questa cosa tantissimo perché i boss sono veramente molto duri, hanno tanti punti vita, hai tanto da fare per uscire a tirarli giù in tempo. Hanno tattiche balorde. Esatto, hanno delle tattiche e soprattutto le uscite quando partono certi unleash, effettivamente cioè unleash è quando i boss praticamente fanno la loro azione speciale, i boss non vi picchiano mai del tipo prendo banda e lo picchio, fanno sempre delle azioni che vi portano verso la rovina collettiva. Ecco e quindi l'unica criticità che io ho visto è questa, resta il fatto che come ha detto banda la meccanica quella del non mescolare il mazzo e di gestirlo in modo funzionale in base alla carta che acquistate e al come ridisponete le carte scartate è strepitoso, cioè vi crea proprio un livello sia tattico che strategico che gli altri deck building sinceramente non possono avere proprio per il limite dato della mescolata. Poi nella sua semplicità, proprio per essere davvero materialisti terra a terra, non dover rimescolare le carte ragazzi in un deck building è un vantaggio incredibile perché è un'attività che tu le prime due volte fai volentieri ma poi devi farlo di continuo, devi continuamente rimescolare le carte. Beh ecco tra l'altro... Qua invece semplicemente rovesci gli scarti che diventano il deck e continui a giocare. Ma tra l'altro questa cosa spiegata a parole è difficile da capire quando poi ci fai 3-4 turni, ti rendi conto della profondità tattica che ha, che ha proprio questa, certe scelte che tu fai durante il turno perché a volte sei lì che non vedi l'ora di scaricare tutta la potenza dei tuoi incantesimi ma poi rifletti che rischi di passare i due turni successivi a non fare un tubo. Quindi dici è a malincuore, mi gestisco la mano in un altro modo. Mi gestisci la mano, trattieni certi incantesimi, ne fai partire altri, è veramente figo. Allora io credo che la possibilità di costruirsi la strategia lungo tutto il percorso Legacy che tra l'altro è molto morbido a livello regolamentare, non ci sono picchi in cui, diciamo che verso il quinto quando comincia si sblocca un altro potere oltre a quello della carica finale che vi ho spiegato prima, i pullstoken, i pullstoken bisogna un attimo gestirli anche perché poi noi abbiamo vinto gli ultimi due scenari grazie a pullstoken, quindi va ogni nuovo, queste regole nuove vanno un attimo interpretate e digerite, però non c'è mai un, come dire, un blocco di informazioni tale per cui non si riesce a digerirlo, si riesce comunque andare avanti abbastanza lisci fino alla fine, ovviamente alla fine sarete iper schillati, avrete ovviamente delle, come dire, una sensibilità che all'inizio vi sognate e questa è una cosa bellissima per in tutti i giochi Legacy, quando esci sei trasformato anche tu come giocatore, quando inizi sei timido, tra l'altro fai queste, l'unico modo per fare danni è queste spark da un dannetto che se lo fanno ridere e poi queste robe si trasformano. Sì, a parte le spark di Mecha l'ultimo boss che tirava delle spark che erano degli scud. Mecha era bastion, bastion di palle di fuoco. Quindi ragazzi, bellissima la possibilità data dagli autori di costruire il mago e di portarselo avanti e di modificarselo e di farlo diventare veramente una parte del team è number one, neanche in Pandemic Legacy facevi così tanta sinergia, anche perché qui non puoi sprecare un turno perché i boss non lasciano scappo, devi ottimizzare tutto, devi ottimizzare al punto che io facevo il puro support, ma puro che io credo negli ultimi tre scenari ho fatto un danno, cioè non mi ricordo di aver fatto danno, io non lanciavo nessun incantesimo, giravo solo con una botta di reliquie che davo praticamente agli altri in modo scientifico per amplificare i loro turni. Beh io facevo solo economia, con l'economia praticamente silenziavo i mob e facevo economia apposta per ogni tanto comprare qualcosa che servisse per il party. Mentre Mecha e Ale sparavano come in caccia, ci sono dei turni proprio mega liberatori dove proprio tu lavoravi tipo allora ti do questo potere, ti faccio pescare ste carte, grazie a queste carte riesci ad avere questo potere in più, si chiama scombare, 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 è che era la metraglia, a meno spell ma più potente, una cosa importante da dire è questa, quando giocate in 3-4 persone non pensiate che tutti e 4 faranno la stessa cosa, giocheranno le stesse carte e faranno danno ugualmente, ci sarà qualcuno che sparerà a manetta e qualcuno che curerà e qualcuno che farà support perché proprio come voglio dire in un morph, se non avete un party ben distribuito in cui ogni membro ha chiaro il suo ruolo, non ne date fuori perché i boss sono cattissimi. Ma la cosa bella è che questi ruoli ve li fate e ve li amplificate durante il corso della campagna, questo l'ho trovato veramente bello, piuttosto che iniziare che io ho il nano che prende le stecche, è che giustamente come in tutto, è come a WoW, tu dici fare danno è divertente, allora tu ti dici voglio fare danno ma perché anche voglio fare danno non si può, ci vuole quello che tanca, quello che cura, quello che fa il trarre, infatti Jack era l'arcera che però non tirava, io non ho mai lanciato una frezza, Jack a me la grafica di questo gioco non piace, sono le grafiche dei libri fantasy anni 80, 90 sono, non sono belle, sono ultratestosteroniche, mi dispiace, quelli proprio da fustone della libreria tuttavia, no è vero e vero, fanno il loro lavoro perché bisogna dire che comunque è tutto molto chiaro, a livello di ergonomia il gioco funziona bene però ovviamente le immagini non sono né, cioè non ti portano veramente in un altro mondo, ti porta più in un altro mondo più che altro la storia, il fatto che comunque ci siano dei maghi che in questa vostra lotta per la sopravvivenza, fanno delle cose e che poi ci sono delle cose che tornano all'interno della storia quindi è sempre bello leggerlo, è sempre bello farsi un po' trasportare dal lore e dal background. Ultima cosa che non è che non mi è piaciuta, il problema è che dovete giocare per forza solo con persone fortissime con l'inglese perché le carte, anche le carte del mercatino non sono per niente banali perché sono pochissime, sono solo nove e ogni volta che voi, che ve ne arrivano di nuove man mano che la storia prosegue, voi dovete sostituirle ad altre già esistenti e qui dovete farvi proprio la strategia in base alle nuove carte che arrivano, dovete farle combinare tra loro e dovete essere in super bolla con l'inglese per esattamente capire che cosa fanno tutte queste carte. Quindi ragazzi barriera linguistica enorme, non ci, non vorrei evitare quello che ci è successo in passato di gente che ci chiede ma posso giocare con le traduzioni, me lo faccio italianizzare? No, qui non ci sono proprio scappatoie, non ci sono santi o madonne, non ci sono santi, magari arriverà il classico eroe che si italianizza il gioco, ci metterà 100 anni, comunque non può farlo perché tutti i pacchi sono sigillati quindi dovrebbe aprirsi tutto, spoilerarsi tutto per tradurre, è un lavoraccio. Quindi ragazzi purtroppo questo è un limite finché come detto banda qualcuno non si accorgerà della brillantezza di questo gioco e si deciderà a portarlo in italiano. E lo porterà in italiano in qualche modo. Io lo trovo anche due spanne superiori allo Ion Z base che mi era piaciuto ma non mi aveva così conquistato come il fatto di prendermi il mio personaggio Peone X e trasformarlo in un mostro del support che fa pescare carte, amplifica i danni, cura, prende, fa, briga, con un mazzetto di carte. Anche il gioco più bello del mondo in realtà quando termina generalmente è tutto da rifare, cioè è proprio lì come ne abbiamo già parlato nella puntata di Pandemic, cioè il genio di Rob Davio quella volta ci aveva visto lungo, cioè il fatto che tu possa giocare anche un gioco fighissimo ma poi finisce lì e di nuovo la volta dopo l'ora in tavoli e di nuovo è sempre tutto uguale a se stesso. Invece il fatto di unire alla base un cuore meccanico pulsante molto forte a una storyline altrettanto forte in cui i personaggi maturano abilità, skill, storie e si raccontano dopo l'esperienza di gioco, quello che hanno fatto, le avventure, le avventure ragazzi potete giocare in single, in double, in triple, in quadruple. Io vi straconsiglio il quattro, personalmente io vi straconsiglio il quattro perché ognuno si cresce il suo personaggio come vuole, si formano delle combo che vi daranno una soddisfazione pazzesca perché alla fine è quello il bello, cioè quando proprio si gioca e io faccio questo in base a te e tu poi lo fai funzionare e questa roba ci porta alla vittoria, è il top. Quindi ragazzi Ion's End, Legacy, super consigliato da tutto il team, ce lo siamo fatto tutto e vi abbiamo portato un mega intervento super corposo perché meritava di essere attenzionato anche da chi magari non ha così sotto mano i giochi magari non usciti in Italia o in italiano. Mentre per invece quanto riguarda Mac oggi torna una rubrica amatissima che è quella del RPG Digest, cioè una rubrica come dire periodica in cui si raccolgono tre novità che spaccano riguardanti il mondo del gioco di ruolo. Mac, io ti lascerei la parola, vediamo un po' che cosa ci sorprende anche questa volta con il tuo RPG Digest. Vai vecchio Leo, vai vecchio, ruggisci ancora una volta. Allora ragazzi, come anticipato nell'ultima diretta di Modena, posso dirvi che anche questa volta la fiera ha dimostrato come ci siano in arrivo una marea di novità. Il mercato dei giochi di ruoli in Italia si è tornato a riesplodere nuovamente e le proposte erano veramente, penso di poter dire, centinaia tra vecchie e completamente nuove. Tutte fighe, Mac? Non tutte fighissime ovviamente, almeno a gusto mio, però... Hai ruggito un po'. Eh no, ho ruggito parecchio in realtà perché avrei dovuto lasciare giù vari stipendi per portarmi a casa tutto ciò che volevo. Però vabbè ragazzi, questo era per dire che c'è veramente tanta polpa e di alcune di cui vi avevo già parlato nella puntata precedente a Modena, come ad esempio il fantastico Barbablu, la sposa di Barbablu, che abbiamo potuto toccare con mano. Ribadisco che è un titolo fenomenale e quando ho potuto stringere fra le mani il manuale, ragazzi, c'è una bellezza bacinante. Tra le varie foto dei bottini di Modena c'è stato anche il mitico Fabio Succi che ha mandato la foto e c'era anche il libro della sposa di Barbablu che, visto e tenuto in mano dal vivo a Modena, era incredibile. Costava come una Jaguar, ma ragazzi, un prodotto di un prestigio assoluto. Cioè, tutto in filigrana d'oro, blu, cobalto, ragazzi, strepitoso. Tra l'altro il gioco è anche molto figo, non per tutti, ma per questo andatevi a riascoltare la puntata precedente alle dirette di Modena. Questa volta, invece, volevo parlarvi di alcune cose che ho scoperto in fiera, altre che sono state annunciate, giusto per darvi un po' il quadro su alcune cose per me piuttosto interessanti, anche da un punto di vista di concept, che arriveranno da qui ai prossimi mesi. Allora, parto subito con un titolo di cui non ho mai parlato, ma che conosco grazie ad Ale che me l'aveva segnalato a tempo debito. È un titolo della The Evil Company, una casa editrice italiana, che è The Silence of Hollowwind. Ale se lo ricorda bene perché è una tipologia, è un Kickstarter, è stato un Kickstarter, pardon, lanciato ad ottobre 2017 e che ha visto il manuale definitivo portato in fiera a Lucca l'anno scorso, nel 2018. The Silence of Hollowwind è particolare perché è un urban fantasy con un'estetica che si rifà all'America degli anni 30 e 40. Potete immaginarlo a grandissime linee, come uno Shadowrun in salsa al Voiled. Dimmi caro Giaccio. C'è pieno di powerplay. No, sto andando in cortocircuito perché fantasy, American 30, urban fantasy. Urban fantasy. La definizione è quella. C'è. Urban fantasy. No, perché dopo mi hai chiarito con il paragone. Con il ritorno a Shadowrun, Mac. Allora, non è proprio un ritorno a Shadowrun perché se nel titolo ormai storico, appunto, cyberpunk che mischia fantasy e tecnologia avevamo un overpower di poteri magici e sciamani, adepti fisici e cose pazze. Uno dei cardini attorno a cui ruota Silence of Hollowwind è proprio l'idea invece che la magia sia una cosa pericolosa, molto pericolosa, messa fuori legge. Infatti è stato fatto proprio un editto che è chiamato l'editto di Merlino con cui tutti i magicanti e gli occultisti sono stati messi fuori legge, al bando, e difatti i giocatori sono chiamati ad interpretare, possiamo chiamarli degli investigatori, di tre dipartimenti diversi che si occupano di vari aspetti di queste potenziali minacce. Abbiamo il dipartimento ordine che sostanzialmente si occupa di cose più classiche come furti, rapine, omicidi e così via, e possiamo considerarlo, esatto, al pari della polizia tradizionale. Le cose più ordinarie come... New York Police Department. Esatto, sì sì. Parlami di quell'orco che fuma il sigaro vestito da Detectivistico. Era tipo il Sipovitz della situazione. Esatto. Ecco, l'orco che fuma il sigaro che c'è in tante immagini del trailer, secondo me fa più parte del dipartimento rivelatori, che è sostanzialmente l'FBI di Silence of Hollowwind. Quindi si svolgono indagini di alto profilo su serial killer, maghi impazziti, complotti occulti, spionati. I classici sciamani tossici di Shadowrun. E la terza? Infine abbiamo il dipartimento persecutori, che non può essere altro che quello destinato all'azione... Alla purga! Alla purga! A purgare! Inquisitor! Esatto, sono proprio gli SWAT del mondo di... Gli Space Marines e di Silence of Hollowwind. Gli purgatori! Allora, date queste premesse e specificato il fatto che il mondo di Silence of Hollowwind non è il nostro mondo, ma è un mondo che ha tutto un suo world building, che è stato costruito nel tempo degli autori e che quindi ha una sua autonomia, diciamo. Date queste premesse, non potrà che essere un successo, ma è che chiaramente... Beh, devo dire che la scelta degli autori è stata coraggiosa perché hanno fin da subito definito Silence of Hollowwind come un, diciamo, un manuale, un sourcebook adattabile a più sistemi diversi. E in questo momento sono disponibili, quello per... lo si può giocare con D&D Quinta Edizione, Fate e Savage World, che sono tre sistemi estremamente diversi fra loro, dedicati a tre segmenti di pubblico molto diversi fra loro. Molto diversi fra loro. Non game esiste? Eh, no. No, perché se... Allora, allora ti interrogo. Vai. Ok. Allora, tu hai detto che ci sono tre sistemi per giocare questa ambientazione. Sì, esatto, esatto. Allora, giovanissimi. Giovanissimi. Teenager. D&D Quinta Edizione, sicuramente, per semplicità di accedere anche all'SDR, cioè alle regole base del sistema. Universitari. Universitari potrebbero apprezzare Savage World, sicuramente, perché è un sistema, soprattutto, tra l'altro adesso è uscita la seconda edizione del manuale, che ha snellito ulteriormente, come sapete io non lo amo per la miriade di dadi che compongono proprio fisicamente il personaggio, però... Lo sapevamo, Jack. È amatissimo. Sì, sì, sì. Lui lo sa. È amatissimo, però, dal pubblico. Ogni volta che esce un supplemento nuovo, grande successo, piace, quindi... È come i Beatles, è come i Beatles. Piace a tutti, ma non a me. Over 30. Over 30 si può andare verso Fate, quindi verso un gioco estremamente narrativo, pochissimi tiri di dadi, tanta discussione e molto più New Wave. E infine, gli antichi, 45 e più. 45 e più, secondo me, è D&D Quinta. Esatto. Cioè, si torna bambini. È probabile che... È il ciclo della vita. Esatto, è il ciclo della vita. No, questo per dire, ragazzi, che la scelta di differenziare così tanto le possibilità sistemiche del gioco, per me... Però, ma è che io devo farti una domanda. Io devo avere il manuale base di D&D Quinta? Allora... Come faccio a differenziare fisicamente? Siamo gli dici, sì, sì, è un porting. No, 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 ho smesso con questa domanda. Fisicamente tu hai... Dentro il manuale ci sono riportate le statistiche per giocarlo in tutti i sistemi. Ah, ok. Poi ognuno... Allora, io so... Non è che mi devo comprare D&D Quinta? Non è necessario, nel senso che le regole basi di D&D Quinta sono comunque open source. L'SDR di D&D Quinta è disponibile gratuitamente online. Fate, nella sua versione Lite, lo stesso. E di Savage World sono disponibili. I Quick Start... Non il sistema completo, però il Quick Start già ti permette di regolare. Di solito sono già ambientati. Prendono una delle ambientazioni tipo Deadlands. Sai che credo che quello della seconda edizione, invece, sia... Abbiamo tutta una parte... Non dovrei sbagliare. Io, però, vorrei capire... Vorrei capire. Se mi compro solo il manuale di questo, posso giocare o non posso giocare? Allora, sì, se hai uno, devi procurare un supporto. Questo è importante, ragazzi. Nel senso che... Allora, io il manuale non l'ho comperato, ragazzi. Quindi, parlo perché mi ha colpito il setting e soprattutto mi ha colpito il motivo per cui ne sto parlando oggi, cioè la nuova campagna Kickstarter che hanno presentato perché secondo me è un'idea geniale. Detto questo, potete andare alle fiere perché ormai è uscito, potete trovare probabilmente degli estratti online anche da guardare. Ma in italiano anche, scusa? Sì, certo. Sì, sì, in italiano. Il Kickstarter era in doppia lingua italiano-inglese. Perfetto. I ragazzi della Devil Company se ne sono inventata una veramente carina, secondo me. con il Kickstarter che dovrebbe essere già partito quando ascolterete la puntata perché dovrebbe essere lanciato intorno a fine aprile, inizi di maggio. Cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di espandere il mondo di Halloween con una campagna basata su un calendario di pin-up con avventure connesse. Praticamente, loro hanno fatto realizzare da artisti italiani un classico calendario di pin-up che come andava molto... Il calendario Pirelli, il calendario Ollo, il calendario pin-up che andava molto in voga negli anni 30 e 40, sapete che è un fenomeno scoppiato proprio in quella... Ragazzi, il DBC è partito dalle pin-up. Tra l'altro, esatto. Ricordatevi. Come dimenticarselo. Chi dimentica, tra l'altro, lo sappiamo. Questo calendario con pin-up avrà appunto un bellissimo disegno realizzato da autori di grande livello del panorama italiano e non, e a ciascuna ragazza sarà associata un'avventura vera e propria che la vede in qualche modo protagonista. E questo, secondo me, è molto bello perché, al di là della qualità delle avventure, che spero si manterrà piuttosto alta perché a leggere in giro, insomma, i pareri sono molto positivi sul materiale prodotto per Halloween fino ad ora, l'idea base, secondo me, di coniugare un elemento feticcio proprio dell'America anni 30 e 40, come il calendario pin-up con queste ragazze bellissime agghindate di tutto punto, a una storia vera e propria che poi costruisce, come dire, arricchisce il mondo di Halloween, io l'ho trovata veramente intelligente e particolare come idea. Una scelta sicuramente non convenzionale. Non convenzionale, esatto, mi ha attratto proprio per questo e poi appunto, siccome non avevamo mai avuto modo di presentare un po' il mondo di Silence of Halloween, che comunque può piacere ad alcuni ascoltatori e amanti di un certo setting, io ragazzi vi consiglio di darci un'occhiata perché potreste rimanere molto soddisfatti e molto incuriositi. Per procedere poi, volevo fare un brevissimo excursus su due uscite della Weird Edizioni, che ormai sta spopolando, ragazzi, perché Max e l'Elisabetta sono veramente due segugi a caccia delle prede più prelibate del panorama GDR europeo. No, direi europeo, sì, anche mondiale. Sono come Ramsey Boyd con l'ex morose, meccano. Praticamente sì, non so se Max sarà contento del paragone però. Sto cercando di far, di figurarmi questo... Sto già cercando di dimenticare. Io ho lo sguardo fisso nel vuoto. Allora ragazzi, sappiamo, perché la notizia è di circa metà marzo, che la Weird Edizioni ha firmato un accordo con la Modifius, che è un editor londinese dal catalogo di GDR, giochi da tavolo, ricchissimo. Basta dire che sono quelli di Simba Rome, quelli di Tales from the Loop, di Actung Cthulhu, Cthulhu Rai Proprio. Cioè, titoli che vi abbiamo presentato più voli. In tutte le salse. Actung Cthulhu. Sì, esatto, esatto. Non voglio neanche... È molto difficile da dire. Ma soprattutto, ragazzi, di un titolo che qua in Italia ancora... Attenzione. Un titolo che ancora non si era visto, ma... Spara la cartuccia, spara la cartuccia. Il nuovo gioco di ruolo basato sulle opere di Robert Howard, Conan, Adventures in an Age I'm Dreamed Of. Il nuovissimo GDR di Conan, che per molti versi è un... Un power play? No, ma che power play? Ancora questo power play? No, quando si parla di giochi di ruolo, Jack dice power play, a meno che non raccogli le patate, è power play. Porting e power play. Allora, il nuovo GDR di Conan in realtà è un kickstart che al tempo ho fatto con mio fratello, sono passati ormai tre anni, credo, per cui era stato preventivato una marea di manuali. Come sapete, i racconti di Conan di Howard, in vari cicli, avevano dei nomi tipo Conan il Brigante, oppure Conan il Pirata, che sono stati poi tradotti anche da Fanucci negli anni, dalla Nord e così via. in Italia sono arrivati sotto molte forme. Era un multiclassico. Esatto, sì. Anche se alla base rimaneva sempre il barbaro. Eh sì, e quindi il... Ma che vetti la... Vorrei vedere te a girare da solo il... Il mutano di pellaccia sempre. Esatto. Il cazzo. Per la cimmeria, sì. Poverino. No, perché... Allora, perché vi porto questa cosa? Perché il gioco è stato fin da subito molto apprezzato per un utilizzo del D20 a abbastanza innovativo, basato sui due D20, ma con tutta una serie di cose accessori, di valuti accessori tipo i punti fortuna o i punti momentum e i punti destino che vengono utilizzati dai giocatori e dal master per cambiare gli effetti o attivare alcuni effetti di gioco. interessante, particolare, soprattutto perché è un gioco che alla base comunque rimane abbastanza classico come impostazione. Non si parla di New Wave, quindi cose pazze. Certo, certo. Robi ultra-analizzi, metà, esatto. È molto... C'è tanta ciccia, ma con un'altra... Esatto. Con alcuni sguardi interessanti sul nuovo. Perché è molto... Questo titolo ha riscosso così successo? Perché uno dei... Allora, il designer principale è Timothy Brown, che a suo tempo fu designer dell'ambientazione di Dark Sun per D&D. Chi se la ricorda, ragazzi? Dark Sun è... L'ambientazione di Dark Sun per D&D. Dungeons & Dragons, al tempo era Advanced Dungeons & Dragons, mi pare. Che è la vera ambientazione hipster per gente... Per Very Black Panther. No, Power Player, Very Black Panther. Very Black Panther, esatto. E' affiancato da Jeffrey Shanks, che è un rinomatissimo autore, studioso e saggista delle opere di Robert Howard. Quindi una persona che ha una cultura su Conan sterminata e che ha voluto proprio affiancare Timothy Brown nella creazione di quello che è considerato, secondo me anche giustamente, il GDR definitivo di Conan. Perfetto. E qui nasce una sola e unica domanda. Vai, caro Jack. Chi fa Conan? Eh, nessuno. Nessuno? No, nel senso... No, è un gioco di ruolo, cioè tu vivi nel mondo di Conan. Tu vivi nel mondo di Conan. Ho capito, ho capito. Ma siamo qua, ci sarà Conan da fare? O è solo NPG? No, no, è NPG. È NPG, non siamo mica in un... Potresti anche non incontrarlo mai. Non siamo mica come Hellboy, dove fai Hellboy. No, ma non è che... Non è che... Non è che Dungeons & Dragons... Fai Dungeons & Dragons. Sì, no. Sì, scusa. Perché in Aventure del Canale non è mezzo, fai Gandalf o Sauron. No, è un po' diverso. Eh, no, ho capito, però tu lo dici. Lo dici, ragazzi. Certo. Sono avventure... Certo, comincia a parlare come nostro signore. No, senti qua. Tu lo dici. Cioè, aiuto. Fermo qua. Adesso mi moltiplica il microfono e il cedirale. No, fermo qua. Non sarebbe male, perché... No, fermo qua. Tu lo dici. Avventure nella terra di mezzo. Avventure nella terra di mezzo. Non si chiama Gandalf. No, ok. È diverso. Ma infatti... Cioè, questo è Conan. Si chiama... No, te lo dico perché... No, giusto, giusto. Sostanzialmente Conan uguale mondo fantasy con Conan. Cioè... Ok. In realtà no, perché... Ok. Cioè, dopo che hai superato, come dire... Esatto. Quello che sa, tra virgolette, il popolino. Tu sai che il mondo della Cimmeria e di tutto quello che gli sta attorno dove si muove Conan in realtà è un... Proprio come dire... È la base da cui tutto lo Sword and Sorcery ha attinto. Quindi si può dire che è il padre putativo di tantissime creazioni che sono venute dopo. Tra cui appunto moltissimi scenari di D&D, pezzi interi del Forgotten Realms. La cover dirò questo, dovrebbe dirvi qualcosa. La cover dirò questo, esatto, parlare sola. E questo è proprio il lavoro filologico che è stato fatto grazie alla presenza di Shanks su questo titolo. Secondo me è eccezionale. Se vedete la lista... Ci mandi le stats di Conan e poi decidiamo bene. Vabbè, quando avremo il manuale in mano... Comunque, ragazzi, per farvela breve, in inglese si trova già una marea di roba. Andatevela a vedere sul sito della Modifios. Sappiate che la Weird lo porterà con uno dei suoi classici Kickstarter a brevissimo durante il corso del 2019, quindi tenetelo d'occhio. Altro Kickstarter, sempre della Weird, che dovete tenere d'occhio, a mio parere, è quello di Lux Occultum, che è un titolo della Riot Mines, gli stessi di Trudvang Chronicles, già oggetto di un Kickstarter di successo della Weird l'anno scorso. Mi ripeti un attimo? Lux Occultum. Lux Occultum. Occultum. Questo mi garba molto perché siamo nell'Europa, in un'Europa ucronica del XVIII secolo. Scusa, la Man in the Eye Castle. Sembra la copertina di un album metal norvegese. Ho sbagliato fuori. E' vero che cosa gli è venuto fuori. Ah, perfetto, sì, sì. Ma pensavo fosse venuto fuori. Lo sono, esatto. E' venuto fuori Lux Occultum, un gruppo di... Death Metal norvegese. Un gruppo di peoni norvegese. Quindi ho anche indovinato, tra l'altro. Allora, la Riot Mines comunque è svedese, quindi siamo sempre da quelle parti, perché alla Weird piace molto il freddo nord. Sì, grazie. E vabbè, per andare al sodo, perché mi piace Lux Occultum? Mi è piaciuto e mi ha garbato. Perché ha, appunto, su un impianto storico reale, quello del nostro mondo, ambientato alla fine del XVIII secolo, c'è tutto un rinascere, una rinascenza di magia, occulto, esoterismo che prende piede nel mondo e di cui la gente, diciamo, comincia a prendere coscienza, ma di cui ancora non ha dominio pubblico. Se ascoltate l'intervento di Mecca al contrario è un'invocazione a qualche divinità pagana. Soprattutto cercate di non googolare Lux Occultum, cercate di googolare Lux Occultum RPG. RPG, perché altrimenti c'è un po' di roba pesa. Soprattutto non fatelo a lavoro, ragazzi, se c'è un IT che sta supervisionando. Not safe for work, esatto. Perché non riesco a trovare il sito di Lux Occultum. Vai sul sito della Riot Mines e lo trovi sicuramente. In realtà Lux Occultum, questo gioco, è una riedizione di un gioco uscito solamente in svedese nel 2006, se non vado errato, che si chiamava Hardcore. È Lex Occultum. Lux Occultum. Io qua sul sito ho scritto Lex Occultum. Lex Occultum. No, no, meglio va che abbiamo... Possiamo rifare tutto l'intervento. No, vabbè ragazzi, Lex Occultum cambia niente. Avevo scritto sbagliato sia nel mio... No, è che se cercano Lux Occultum gli viene fuori della roba che gli devono cavarsi gli occhi poi. Giusto, a Chiedovenia, è vero. Vabbè, Lex Occultum. Lex Occultum. E cosa dire, appunto, è una riedizione di questo titolo che già al tempo aveva attratto abbastanza l'interesse di molti giocatori perché è un setting appunto che basandosi sul nostro mondo reale sicuramente offre più appigli a chi preferisce l'approccio storico. Ma è ambientato in Inghilterra, in America? Allora, quello che ho visto io è ambientato principalmente a Londra, però da quello che ho capito... Inghilterra vittoriana? Sì, esatto, inghilterra vittoriana. Un po' in sapore di Penny Dreadful, se volete, anche se i giocatori poi non interpreteranno dei mostri come Penny Dreadful, ma degli investigatori dell'occulto. Quindi società segrete, cose misteriose, molto interessante. Loggia del crepuscolo d'argento. Spiriti maligni. Spiriti maligni, possessioni demoniache. L'apparato grafico è molto valido. Io sono stato... La mia attenzione è stata catturata principalmente da quello. Quindi, quando uscirà il Kickstarter, sempre nel corso del 2019, all'opera della Weird, dateci un'occhiata perché se fa il caso vostro, secondo me potreste trovare... Ecco che si alzano le mani. Prima di mani si alzano la manetta, vai. Sono un po' triste perché mi aspettavo scrivessi di Seco Creek. Lo ammetto candidamente perché la Dreamlord Press ha portato a Modena quest'opera che è un legal drama, ammientato nel vecchio West, che è di fatto un... Scusa, cosa vuol dire legal trauma? Trama. Ah, legal drama. Mamma mia, ragazzi, che dislessia che c'è oggi. Legal drama, hai ragione, scusa. Ok, scusa. Ammientato nel vecchio West, nella città di Seco Creek, in cui tre fuori legge sono stati incarcerati e i giocatori interpretano la gente che li vuole linciare. Ah, fantastico. Questo ad esempio non è power play. Il GM è di fatto il giudice che deve un po' supervisionare la storia. Gli altri sono cittadini che devono dire la loro sul cosa fare con questi tre fuori legge perché non ci sono prove schiaccianti. Manca qualcosa di prezioso che è stato rubato, c'è un morto e il treno per la città parte il giorno dopo. Quindi o lo linciamo subito oppure... Mi piace il tuo tentativo di hackerare l'RPG di Ultimac. Quindi diventa una sessione di Ultimate Werewolf, praticamente. No, mandatemi a ruogo. È vero, cioè, concettualmente, è vero. Secondo me è un titolo super bello che, tra l'altro anche questo è un Kickstarter del 2016 o 2017, non mi ricordo, che è proprio in italiano proprio della Dream World Press. Era di fianco allo stand dove c'era la sposa di Barbara Blue. E io e Jack ci siamo finiti addosso mentre giravamo per me. Vedi che c'era troppa roba. Ma la mia domanda è, io sono, guarda, veramente, mi metto nei panni del peone della strada e dico, grazie Mac di tutti questi titoli, ma ci sarà qualcosa che potrò comprare senza fare un Kickstarter oppure devo fare sempre solo Kickstarter? No, certo, quello che ti ho detto la volta scorsa. Perfetto. Ma la mia domanda è, ma perché ci sono tutti questi Kickstarter nel mondo del gioco di ruolo che sono dei libri? Allora, veramente, facciamolo per tutto. Secondo me la tendenza è comunque quella che si è vista un po' con i giochi da tavolo, con qualche anno di ritardo. Cioè, comunque, il Kickstarter ti permette di fare tutta una serie di edizioni più pregiate e più ricche di materiali, che poi... Lavorando sul venduto, Jack. Esatto. In fase retail. Grazie. Thank you, thank you at the cats, Ale. In fase di retail è molto difficile. Poi però, comunque, ad esempio, la Weird aveva ancora delle copie che erano acquistabili dell'edizione dell'Axe di Trude Van Chronicles, ce l'avevano lì allo stand. Quindi si sa sempre che dopo un Kickstarter c'è modo di acquistare queste pregiate copie, però questa cosa... cioè la fame, come dire, del giocatore di avere l'edizione speciale con i contenuti speciali ed esclusivi ti permette poi di avere... di comprare altri titoli e quindi di ampliare il tuo panorama. A livello di marketing si chiama esclusivismo. Esatto. Kickstarter poi aveva sull'esclusivismo. Sono molto... io non ho niente in contrario a questa roba qua. Però la domanda, secondo me, è legittima del perché per comprare... per fare dei libri mi chiedete i soldi sei mesi prima. Hai ragione. Perché ci sono queste cose che vi ha spiegato Mac. Esatto. Poi c'è però anche la parte buona, la parte bella della medaglia. Cioè questa cosa permette di avere prodotti in italiano... E molto più rischiosi. Prodotti molto più rischiosi, molto più di nicchia in italiano, in edizioni iper esclusive che di fatto non fanno altro che arricchire il pantheon di giochi a cui non avreste accesso. Un conto è se hai in mano Vampire Quinta Edizione che è un titolo che veramente si vende da solo. Si autovende. Dall'altra parte hai un titolo come Corioli che secondo me è un ottimo titolo ma è rischioso comunque per quanto abbia avuto successo l'edizione del lese. È chiarissimo Mac. È quello il discorso. Bene. E un altro Kickstarter, l'ultimo, che vado a descrivere è proprio della Need Games. Me l'ha cacciato proprio in mano Michele Paroli che è uno dei... Pensavo avessi finito. Ho rischiato di rubarti un titolo. No, no, ma figurato fuori. Di questo ci tenevo molto perché è un titolo a cui francamente ragazzi quando avevo sentito parlarne la prima volta non avrei dato due lire perché i personaggi giocanti sono animali antropomorfi. Io con gli animali antropomorfi proprio non c'ha zecco zero. Però quando Michele Paroli di Need Games me l'ha presentato e me l'ha fatto un po' vedere devo dire che sono rimasto piuttosto stupito intanto dalla qualità dei disegni perché allora parliamo di Historia che è una con l'H davanti nasce da un'idea di Mirko Failoni che è un concept artist e illustratore che ha lavorato proprio per Vampire, per Age of Sigma, per Pathfinder e così via che alcuni anni fa si divertiva sostanzialmente a disegnare questi animali antropomorfi in un'ambientazione che ricordava un po' il nostro rinascimento un dark fantasy in salsa rinascimentale. Ha incominciato a pubblicare qualche sketch sulla sua pagina di Facebook e così via e alla fine gli è stato proposto di realizzare un concept book di illustrazioni tratteggiando un po' anche la storia di questo mondo. Una roba tira l'altra e alla fine con Michele Paroli e Matteo Pedroni, che è un altro dei designer del famoso Journey to Ragnarok di cui tante volte abbiamo parlato, hanno deciso di trarne un gioco di ruolo, tanto era interessante il suo film che trasmetteva. Hanno detto concretizziamo. Esatto. E il volume di illustrazioni da cui tutto è partito si chiama Historia di Magi e Briganti, Vigliacchi ed Eroi ed è un progetto che Mirko ha realizzato nel 2017. Ora, nel corso del 2019, a settembre molto probabilmente, verrà pubblicato il Kickstarter appunto di Historia, che porta in questa ambientazione sul sistema, innesta questa ambientazione sul sistema di D&D Quinta Edizione. Non è un porting. Che ormai non è un porting, perché non porta niente. È un sourcebook. Esatto. Vi presenta il mondo. E ragazzi, io devo dirvi che sfogliando il press kit che mi ha dato Michele, guardando le illustrazioni in rete, eccetera, devo dire che il lavoro fatto dai ragazzi della Mana Project Studio è veramente notevole, perché hanno preso questa idea di base di Mirko, l'hanno sviluppata molto bene e ci ritroviamo, tanto per dire, Torquato di Tanafonda, che altro non è se non un tasso moschettiere con il moschetto popo. Torquato tasso. Esatto, Torquato tasso. E in tutti i mondi c'è Monte Torto, ad esempio, che è questa roccaforte dove c'è la più grande gilda di alchimisti del mondo di Gaia, che è quello in cui è ambientato in storia, e tutti questi nomi poetici un po' strambi mi ha ricordato un vecchissimo racconto, serie di racconti che leggevo quando ero bambino, che è Il vento fra i salici, famosissimo Winds in the Willow, dove c'era Messer Ross, poti ricordi, Ale, il tasso, la talpa, eccetera, e mi ha risvegliato proprio una fascinazione un po' infantile, che però poi si scontra... Quando ancora amavigli animali. Esatto, che però poi si scontra in realtà con la crudezza del mondo in cui è ambientato questo gioco di ruolo, perché se volete vederla così, per molto sommi capi, potrebbe essere una sorta di Warhammer Fantasy Rollplay, però in salsa antropomorfica, con animali antropomorfici. Quella anziché ne chi puzzola, cosa del genere. Esatto, ci sono nuovi... Allora, i personaggi principali si dividono in due grandi famiglie, che sono i teri e gli aviani, cioè gli animali terricoli, diciamo, e i volatili. Ciascuno di essi ha tutta una serie di possibilità, puoi fare la lince e il lupo. ci sono molte... E' un po' il root dei giochi di ruolo. Cioè, animaletti pucciosi, ma che in realtà... Non sono neanche tanto pucciosi, perché l'osso non è abbastanza giusto. Cos'è il molossoide? Il molossoide sono tipo i cani, come i Doberman... Il molosso... Ok, ok. Posso fare... Il Doberman non è un molosso. C'è quel disegno, ragazzi? Sì, sì, l'ho visto all'inizio. Quello è un paladino, ad esempio il cane che si vede in tante illustrazioni. Comunque, potremmo fare il quartetto di Ruminsi, Pecora, Capra, Cervo, Toro. Eh, why not? Potremmo fare i personaggi Counter Freighters, anche voi. Esatto. E comunque, ragazzi... Ma il tricchicolo ha venuto dura. Andatevi... Allocco Barbagiani e Civetta Gufo. Come tanto lo vedo. Così non facciamo più di ripercezione, finalmente. Esatto. Li passiamo tutti in automatico. Io devo dire che il press kit che mi ha dato in mano Michele e che è quello che presenta l'ambientazione è di una qualità veramente eccellente, sembra quasi un micro manualetto. Vi dà già qualche connotazione principale sulle nuove classi che saranno disponibili per il sistema di D&D Quinta, quello che potete fare, le specializzazioni, c'è tantissima carne al fuoco. Io credo che se i ragazzi vanno avanti con questa qualità, avremo un manuale realizzato da un team completamente italiano che forse supererà anche la qualità di Journey to Ragnarok. Quindi io vi dico, tenete gli occhi aperti, settembre 2019 dovrebbe partire il Kickstarter, noi non mancheremo di parlarne. E con questo concludo l'RPG Digest per questo mese. Grazie a tutti e arrivederci. Ci vediamo probabilmente in estate con l'RPG Digest a inizio settembre. Beh, no, penso che per l'estate ci sarà altra roba. Perfetto. Spolpato. Ale, ti guardo dritto dritto nelle palle degli occhi, perché oggi tratti di un titolo che mi ha personalmente veramente molto colpito, un Kickstarter naturalmente. La cui campagna si chiude proprio oggi, ragazzi. Esatto, quindi ragazzi, occhio, e sto parlando di Kingdom Rush. Today is a good day to Kingdom Rush. Questo titolo sta abbastanza spaccando nel panorama dei progetti Kickstarter, me lo confermo. È l'ultima fatica della Lucky Duck Games, casa che in questi anni sta, in un certo senso, concentrandosi sulle trasposizioni da tavolo di giochi per mobile. Parliamo appunto di Mutants, che è un deck building asimmetrico. Parliamo di Chronicles of Crime, che quello non è un gioco per mobile, ma di fatto è una specie di commissione fra gioco da tavolo e videogioco. Insomma, di Joyride Jetpack, che è il titolo della 3M Games. Insomma, loro prendono videogiochi o comunque giochi per mobile e li portano in versioni da tavolo. Kingdom Rush è di fatto la loro ultima fatica e si rifà alla prima applicazione per mobile, che si chiama appunto Kingdom Rush, che è stata poi seguita da altre due edizioni, che sono Frontiers e non mi ricordo l'altra come si chiama, uscita anche su Steam. Di fatto sono dei Tower Defense, cioè dei giochi, in questo caso cooperativo per 1-4 giocatori, in cui noi, cosa dobbiamo fare? Sopravvivere a delle ondate di nemici che cercheranno di arrivare alla nostra città... L'ignoranza più dura a livello di meccanica. Esatto, a livello di idea. La meccanica, come loro hanno trasposto il gioco trasformandolo in un Tower Defense, se non è pregevole, farò una piccola descrizione perché è difficile farlo capire, però cercherò nel limite del possibile di dargli un'idea. Allora, Kingdom Rush vede i giocatori interpretare uno degli eroi che sono presenti anche nell'applicazione, e che costano, sono acquisti in app, tranne due sono tutti acquisti in app, c'è il cavaliere, c'è l'arcele, il demone, il barbaro, c'è l'uomo di fuoco, c'è il barbaro, c'è il mago e via dicendo. Ognuno di loro è dotato di un set di tessere sagomate, tipo quelle del Tetris, personali e diverse rispetto a quelle di tutti gli altri. Ad esempio l'arciere ha quelle più semplici, secondo me c'è il quadratino singolo, i due quadratini, i tre quadratini, il mago ad esempio ha gli incastri più strani perché ha i pezzetti quelli fatti. E dove devi incastrare queste tile, Ale? Allora, di fatto, cosa sono riusciti a fare? Hanno creato un tabellone in cui dei blocchi, sono delle carte che vengono posizionate su un tray di plastica, si muovono verso la base, verso l'uscita. Ci sono degli spawn point che di fatto calano una carta e su questa carta sono raffigurate, sono delle griglie, se non sbaglio, 6x6 o 8x8, non mi ricordo, se non ho memoria. 6x6 o Jack? 36 o... Vabbè, questa me la sono un po' chiamata, questo zitto. E su questa carta sono dipinti, scusatemi, sono disegnati i nemici che stanno avanzando verso la vostra base. Che possono essere diversi di volta in volta. Sono diversi dai goblin agli orchi alle creature volanti, c'è un sacco di roba diversa che sta di fatto avanzando verso il vostro villaggio e alcune di queste hanno delle piccole icone che danno dei poteri speciali a tutta la tile che sta avanzando. Voi, con le vostre tesserine composte di questi pezzi del Tetris, dovete andare a sovrapporre il pezzo sopra le creature e questo di fatto rappresenta il leo uccise. E dovete fare piazza pulita della tile in questo modo. In più, ci sono delle aree della mappa in cui voi potete costruire delle torri difensive. Quindi, le torri degli arcieri, avete i maghi che sparano dalla torre, avete, che so, quelli che bombardano. Quelli che bombardano, sì. Tutte quante le tipologie di torre che ci sono anche nel videogioco le trovate in questa versione da tavolo. E ogni torre avrà, a sua volta, la sua tile, il suo pezzettino di Tetris particolare, da andare a posizionare. Il gioco è molto dinamico perché i turni sono molto brevi ma anche molto... Molto intensi. Molto intensi perché dovete stabilire con grande precisione e attenzione dove posizionare cosa per non bloccare il gioco degli altri. E la cosa che, secondo me, è più bella è che voi avete una scelta da fare ogni turno. Voi avete una mano di carte, carte quadrate, lo so, banda, scusa. Ai, 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 tristezza. Carte quadrate che rappresentano le torri che potete carare. Se voi non le utilizzate e le passate al vostro vicino, nell'ordine di turno, il vostro vicino le potrà upgradare, cioè fare l'aggiornamento e renderle più potenti. Però, di fatto, state perdendo forza di fuoco per quel turno. Quindi è tutta una scelta se calare subito roba che però fa pochi danni, quindi tesserine piccole, oppure andare a aspettare il momento giusto per buttare giù la torre quella più performante per cercare di abbattere che gente possibile. Che era esattamente il problema che ci si trovava nel gioco per computer dove dovevi decidere se allocare i tuoi risparmi nelle torrette piccole oppure aspettare a fare un po' di soldini e a upgradare quelle che avevi già grosse. Il gioco si basa sulla campagna, è una campagna a scenari che vi porterà a scoprire chi è questo mago che sta cercando di manipolare il tempo, crea una sorta di comandare lo spazio-tempo, cioè proprio quello che è descritto. Sono, se non sbaglio, dieci missioni che affronterete in campagna e poi ci sono ovviamente un'infinità di scenari... Stratts balls, espansioni, eroi extra... Eroi extra hanno già sbloccato... Beh, ovviamente stiamo registrando prima che la campagna sia terminata, hanno già sbloccato diversi eroi speciali. Ci sono due espansioni che aggiungono eroi e altre avventure, quindi diciamo il materiale è praticamente infinito. C'è già gente che sta pensando a come fare degli scenari... è una cosa che si presta a bomba, secondo me. È sicuramente il gioco perfetto per questo tipo di applicazioni e tutto questo è fatto con la grafica del gioco che è molto pucciosa, un po' orientaleggiante. A me è piaciuta molto perché l'ho trovata molto chiara. È estremamente chiara nello schema colore e nel tipo di tratto, si capisce subito che cosa fa tutto. Sì, è il classico tratto da... Mario Kart, mi sembra la grafica di Mario Kart a un certo punto. Sì, esatto. Da videogioco, da applicazione nobile, quindi... Da Ice Forge, tipo roba così. Forte saturazione dei colori, linee marcate e diciamo caratteri essenziali perché voi non avete chissà che... Sì, però enorme chiarezza. D'altra parte secondo me derivando da quello che il gioco originale, proprio il primissimo, era un gioco in Flash su The Adult Swim, mi pare che forse, adesso non ricordo esattamente, però era un gioco quindi che tu facevi in una finestra grande così, 800x600 e dovevi capire tutto. Infatti quando l'ho visto su Geekstart, che io e Ale ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, mi sono subito stupito di quanto funzionasse bene quel tipo di grafica anche su un board game. E quello che dici tu è proprio vero. Volevo chiederti Ale, ma secondo te c'è una ragione chiave per cui uno dovrebbe impegnarsi in questa campagna e invece spendere 2,50 euro e comprarsi l'applicazione, giocarsi sul telefono. Beh, in realtà sono due giochi... Posto che mi rendo conto che sono due approcci un po' diversi. Sì, sono due giochi diversi perché diciamo che loro hanno cercato di trasporre da tavolo le sensazioni dell'applicazione, ma non hanno trasposto il gioco per quanto sia un tower defense, perché era impossibile. Ma perché non hai il tempo reale. No, esatto, non c'è il tempo reale. Quindi in realtà alla fine schiaccia schiaccia il gioco è molto diverso, meccanicamente, no? Secondo me, siccome il tower defense a livello puramente da tavolo non è presente in molti titoli e generalmente è sempre un po' sottotono, abbiamo visto una buona rappresentazione con Village Attacks di cui abbiamo parlato inizio puntata. C'è anche Panic Attack, mi sembra un gioco abbastanza vecchio che lì è proprio puro, cioè tu hai la torre con gli orchi che avanzano verso il centro. è molto lineare, però è un gioco che aveva poca forse longevità. C'è Xenoshift Won't Sloth, che è un altro kickstarter di qualche anno fa, che è un tower defense deck building a tema sci-fi, molto bello, ma non ha avuto il successo che secondo me avrebbe meritato. Meritava, sì. Diciamo che è un genere che ha bisogno di qualcosa di un po' di diverso. Però loro partono da un IP che è ormai molto famoso soprattutto a livello europeo e orientale e l'hanno di fatto applicato a gioco da tavolo giocando sul discorso del die placement, cioè del fatto che tu piazzi le tesserine. Ragazzi, non ci sono dadi in questo gioco qua. No, non ci sono dadi. Cioè ve lo dico, prima che pensate che sia il solito gioco smazzettone con... Non ci sono dadi. Secondo me è quella la roba più bella, non è? Sì. Village Attacks è più un gioco americano in cui tiri tanti dadi, tiri tanti dadi, fai bagarre. Però il tiro di dado ti può far fallire in modo miserabile per cause non dovute alla tua strategia. Ecco, in questo no. Qui sei proprio messo alla prova a livello anche di pianificazione perché piazzare la torre giusta al momento giusto, andare a utilizzare l'eroe in una tile piuttosto che un'altra... Fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Fa veramente la differenza. Quindi a livello proprio di quanto ti senti premiato nel vincere, questo qua tocca dei punti che altri titoli non riescono ad arrivare. Sì, ragazzi, comunque tutte le illustrazioni, tutto il flavor qua mi piace tantissimo. Devo dire la verità, non è per fargli pubblicità gratuita, però ragazzi veramente c'è la chiarezza e la pulizia, il fatto che la coerenza di tutti i materiali, di come sono stati fatti, è fantastica. Sì, America ha dato abbastanza a Mike vs. Minion, a livello proprio di materiali. Però qua ci sono scatole su scatole, cioè quando arriverà questa campagna devi preparare l'armadio. Allora, i due pledge sono da 50 euro per la versione base o 71 euro per la versione deluxe, che cambia a livello proprio di materiali, a livello proprio materico, cambia della roba. Poi ci sono le espansioni quelle relative alle boss fight, cioè i combattimenti contro i boss. Sì, vedo, vedo. Qui abbiamo Lord Blackburn, che è proprio un'armatura gigante, che c'è il suo deck. Una brava persona sicuramente. Quanto aveva in filologia romanza Lord Blackburn, Jack? Non credo. Non benvenuto. Io credo che Lord Blackburn all'inizio fosse stato tentato dalla carriera della filologia romanza, ma poi alla fine abbia optato per arti oscure. Gli piaceva l'elmo cornuto. Ha preso in mano l'azienda di famiglia, insomma. Esatto. Mystery Boss e poi The Time Mage, che sembra quello più... Sì, che è il boss finale. Di fatto è il boss finale. Ecco, di fatto è il boss finale. I only need two things. Your submission and your obedience to my will. Questo è il motto. La mission aziendale di Time Mage è proprio questa. Secondo me tocca tutti i punti giusti per aver successo. La campagna è stata strepitosa fino praticamente a quando stiamo registrando, ma ormai mancano pochi giorni e secondo me si confermerà alla grande. Ecco, dovrebbe esserci un late pledge. Spero perché ci sta ascoltando, perché altrimenti avrete probabilmente un'ora di tempo per decidere se fare o meno il pledge. Vedo scenari che si possono scaricare, tra l'altro. Ci sono scenari scaricabili. Scusami, scenario e regole. Regole, sì. Beh, ovviamente sì, ormai è una campagna senza le regole. Tra l'altro Rado è tipo impazzito provando questo gioco. Beh, ragazzi, vi dico che è normale, perché quando comincia a giocare al posto di Gen di solito fa di quelle robe assurde. In questo gioco a un certo punto ha proprio ceduto. Cioè, in un certo senso percepisce i momenti in cui la sua mente crolla. E poi secondo me 70 euro è un prezzo mega onesto per la versione deluxe. Sì, sì, beh, ci sono manuali. Versone base 52 euro, non so chi possa fare, per 18 euro non so chi possa rinunciare. Ci sono le miniature dei boss di eroi, ci sono le miniature dei boss. Ovviamente invece i mostrini sono semplicemente disegnati sulle carte quadrate. Magari se avete Mac vs Minion potete fare la pazzia e utilizzarle, ma secondo me poi non finite più. C'è una partita dura 5 ore. C'è Moloch. C'è la modalità solitario, ovviamente si presta per essere giocati solitario. È un titolo che secondo me è molto interessante anche dal punto di vista economico, come appena ha detto Jack. Ecco, 70 euro per la versione deluxe, vi dico, non è facile dirvi spendeteli. Ma è un titolo che intanto secondo me ha un'ottima rivendibilità. Uscirà retail, però a livello di eroi, se non sbaglio, due sono esclusivi di Kickstarter, quindi avete questo piccolo vantaggio. Ecco, scusami, l'italiano. Il gioco è in inglese e in francese. Sarà possibile scegliere in fase di pledge manager una delle due lingue. L'italiano sarà scaricabile, scaricabile gratuitamente dal loro sito a fine campagna, insieme allo spagnolo e tedesco. Il gioco è... Io ovviamente scaricherò il tedesco, ragazzi. Beh, ovvio. Beh, certo. Il gioco ha poco testo dovuto più che altro alle abilità dei vostri personaggi e alla scheda del personaggio, che riporta un po' di testo, ma per il resto è indipendente. Comunque è abbastanza indipendente. Perché? Perché ogni torre riporta il tipo di tesserina che può piazzare, le direzioni e l'angolazione. Fine. Non c'è niente di scritto. È tutto disegnato. Quindi, anche a livello puramente di gameplay, il fatto di conoscere o non conoscere l'inglese è del tutto ininfluente. Ecco, vedo spedizione tra i 10 e i 15 euro per l'Italia. È un friendly. È un friendly. Beh, 10 e 15 euro per l'opzione. La Lucky Duck è californiana, ma ha un ufficio in Francia, quindi non avranno... Esatto. Bravi ragazzi. Io devo solo dare un'ultima nota, la consegna prevista, perché questa purtroppo è stata una cosa che mi ha un po' ucciso dentro. Vai Ale, ma non ti voglio rubare... Se non sbaglio è marzo 2020 o sto sbagliando? Ah, giusto, giusto. Appena dopo il capodanno cinese. Appena dopo il capodanno cinese. No, durante, durante. Quindi vuol dire ottobre 2021. Cioè, una nave cinese in tutto il mondo è la loro che vi porta al gioco. Per essere qua a marzo 2020 il gioco deve partire dalla Cina a dicembre, ragazzi. Quindi dicembre-gennaio. Per cui vuol dire farlo prima dell'inizio del capodanno cinese. Secondo me non succederà. Cadrà esattamente in periodo del capodanno. Il gioco lo vedrete a giugno 2020. Bravo Ale che è aperto. Ecco, devo dire, è tanto tempo però rispetto a una media delle cose che stiamo vedendo adesso. Ok, tutti ti propongono ottobre adesso. Quindi magari questi sono anche più realistici. Ti dico, secondo me succederà una cosa bruttissima. E i privilegi. Che loro alla Gencon porteranno la demo. Ale e Cassandra. A Essen avranno qualche copia pre-production. Che so, cento copie che venderanno se è pronta. Sì e no. Parliamo di novembre. Può essere di no, spero di no sinceramente. Dopodiché cosa succederà? Tragedia fino a giugno. Nel frattempo i negozi lo avranno a marzo e in versione retail lo vedrete giocare a fine marzo. Ecco, questo è classico. Qualcuno ha detto Nemesis. Qualcuno può essere. Sai che può essere, neanche. Comunque sulla campagna c'è scritto aprile 2020. Comunque ragazzi, un gioco tra i migliori che mi passo di vedere negli ultimi settimane Ale, tu hai fatto il pledge? Ho fatto il pledge. Ho l'euro lì depositato ormai da settimane. Sto cercando di convincere Mac a prenderlo al posto mio perché non lo voglio di spenderli. Però sicuramente l'Ibc arriverà. In qualche modo arriverà. Perfetto. Grazie Ale. Questo era Kingdom Rush. Grazie Ale. Bombardaci. Kingdom Rush. Benissimo. Cosa ci bombardi tu Jack? Vi bombardo con un ultimo intervento per questa puntata di oggi. Doveroso direi. Doveroso. Allora, una settimana e mezza fa io e Banda siamo stati ospiti del mitico Flavio Collovini, un nostro ascoltatore che ha organizzato una giornata intera dedicata a un gioco che si chiama Middara. Il Middara Day. Il Middara Day. Flavio ci ha anche regalato delle splendide bottiglie personalizzate Duish Bears Club che sono state anche fotografate. A Pasquetta abbiamo pubblicato una foto. Esatto. Andatevela a vedere. Ragazzi, Flavio ha un'azienda agricola con produce vini, nel particolare Prosecco di Ottima Fattura che io e Banda, pur non essendo bevitore, ci siamo scolati. Al secondo scenario ero ebro, ragazzi. Se c'era Mac non incominciavo neanche il primo scenario. Non credo, ma tra l'altro avevamo tre tavoli con, c'era, non so, Marco della Tana dei Goblin. Ragazzi, Flavio abita a Pra Maggiore, cioè è il triangolo del Prosecco. Il triangolo del Bermude. Sando a Pra Maggiore, Venezia Treviso, siamo lì, c'è quello lì. C'era Neko del Gioconauti e Marco Asgaroth della Tana dei Goblin, con Max e la fidanzata. Con Max e la fidanzata. C'erano i compagni di gioco abituali di Flavio. Un bel gruppetto, insomma, colorito. Di cui tra l'altro adesso Banda c'erano i nomi. Axaroth l'avevi detto. Sì, sì. Era la terza volta. No, lo dico perché mi ha molto colpito. Posso dire che c'era anche Marco Asgaroth. Sì, è giusto che qualcuno sia... Marco è arrivato dalla Spezia, ragazzi. Cioè, la dedizione al gaming di quell'uomo fa impressione. Al tavolo del Team 7. Il Team 7, per chi ha seguito Naruto sa a cosa mi riferisco, era composto da... Banda, anzi, Jack, con il personaggio snob su tutto io, potenza magica... Power Play. Power Play, sì, sicuramente. Anche un po' porting, secondo me. Matt, Mattia Sarcetta, che secondo me era quello che aveva il main DPS, che eseguiva tutti i modi. Ah, quella con la falce che mi era puntata. Quella con la power falce che aveva... Power falce. Quasi morto tre volte. L'esecutore. L'esecutore. Poi c'era Ed Enrico Leorato, che aveva il personaggio che era una crasi tra One Piece e... E One Piece, perché sembrava un personaggio di One Piece. Sembrava un pirata di One Piece, sostanzialmente, che faceva un po' di tutto. Ma era di gomma? No, no, era il classico pirata di One Piece. Ah, ok. E per finire, Banda, che aveva... She Mutes. No, che aveva il personaggio testosteronico a torso nudo, con petto villoso, due martelli tipo i nani di Storm Winding Wolf, che per tutta la partita è stato convinto di avere il tank, salvo poi scoprire che era Liller. Ragazzi, con scene tipo, ragazzi vado, io sono il tank... No, fermi, fermi, fermi. Non avevi anche Tornillo. No, fermi, fermi. Pregevole che Banda parla di sé in terza persona. Sì, pregevole che Banda parli di PG prima di parlare del gioco. Banda morla essere millenario. Non sapete ancora cos'è Middara. Banda vi ha fatto... Facciamo un po' di chiarezza, Jack, per favore, dai. Allora, ragazzi, Middara è uno di quei giochi che... Adesso ti faccio introdurre come è arrivato al mondo, ragazzi, un attimo. Un attimo, prego. Middara, questo mio intervento ha causato un entusiasmo incredibile. Ragazzi, noi siamo come Tarantino ormai. Giriamo i nostri episodi in ordine non cronologico. Esatto. Non ce lo possiamo permettere. Tanto, sì. Allora, Middara è... Che cos'è Middara, ragazzi? Middara è un progetto Kickstarter di cui adesso Ale ci spiegherà la nascita, il background. Che fa parte di quella ristretta cerchia di giochi che si può dire creino un mondo, cioè vi offrono un mondo. Quando vi arriva Middara non vi arriva un gioco, vi arriva una gigantesca storia ambientata in un mondo complesso e variegato, pieno di cose da fare, pieno di personaggi incredibili, pieno di storie, pieno di avventura, pieno di esplorazione, pieno di narrazione. E quindi, sono i giochi classici che alla, per esempio, Kingdom Death Monster, Gloomhaven, voi non è che vi arriva Gloomhaven, fate tre partite e dite, beh, però, non male questo Gloomhaven. Eh, sono mondi che vi arrivano a casa. Se non altro, cioè, vi ci potete dormire in queste scatole, tanto sono grandi di solito. E Middara non fa eccezione, anzi, forse è tra i progetti più mastodontici che abbiamo visto coi nostri occhi dal vivo. Il libro delle regole era grande come un impugno. Guardando le foto che hanno portato a casa Bandai Jack, cioè, veramente, devi rimanere in base. Eh, ragazzi, dieci giorni fa è uscita la gallery, quindi vi siete potuti rendere conto anche di com'è il taglio grafico dell'opera. Vi abbiamo preparato con quella gallery, però Middara è un gioco che ha avuto, un gioco, ripeto, gigantesco, che consta di tantissimi scenari, poi vedremo, che però ha avuto una storia un po' travagliata. Non è vero, Ale? Allora, Middara, la prima campagna... no, in realtà, c'è una sola campagna, partita in giugno 2015, se non lo vedo. 2015? Non stiamo sbagliando, eh? Che ha visto raccogliere più di 300.000 euro all'epoca, se non se lo ricordo male. Comunque, un progetto che secondo me avrebbe potuto ambire a molti più soldi. Però, per il periodo, è stata comunque una campagna di grande successo, che dava come consegna prevista intorno a marzo 2016. Adesso, il gioco è arrivato ai Baker nel marzo, sì, vero, del 2019. Esatto. Ok, quindi con qualche anno, con tre anni di ritardo. Tre, con qualche anni di ritardo, tre. Allora, se voi andate un po' alla ricerca, che so, nel forum di Tana di Goblin, dove c'è, ci sono 180 pagine di post che vi raccontano un po' tutta la trafila attraversata, Ecco, voi scoprirete che questo titolo è stato molto sofferto, soprattutto perché la casa che ha lavorato questo titolo, la Succubus, si è trovata di fronte a qualcosa di ben più grande di lei. Erano un po' alle prime armi, primo progetto, prima vera sfida, si sono trovati investiti da migliaia di Baker con la bava alla bocca che volevano questo prodotto il prima possibile e hanno comunque cercato di tenere il controllo di tutto, rilasciando update tempestivi, raccontando per bene quello che stava succedendo, però l'update era tipo, oh ragazzi, vogliamo fare le cose per bene, sei mesi di ritardo. Ragazzi, vogliamo fare le cose meglio, sei mesi di ritardo. Ragazzi, vogliamo fare le cose, sei mesi di ritardo. Questa cosa si è accumulata in modo un po' pazzo, ci sono stati problemi di spedizione perché loro all'inizio avevano deciso di dare gratuitamente il gioco ai baker americani e siccome sarebbe costato... Sì, spedire gratuitamente, no? Non dare gratuitamente, però. E cos'è successo? Hanno deciso di fare lo sconto anche agli altri, cioè siccome la spedizione per gli Stati Uniti costava 10 dollari, anche a voi che arrivate dall'Europa avrete uno sconto di 10 dollari. Si sono trovati che un pacco di 9 chili non è così economico da spedire. Non lo spedisci con 10 dollari. E se voi andate a rileggere la vecchia campagna, scoprite che avevano calcolato tipo 15 dollari di spedizione per l'Europa. 9 chili ragazzi. Forse sai anche tutti i dazi. Infatti io adesso non ho indagato così tanto a fondo, però se non ho capito male hanno chiesto un po' di soldi in più per poter spedire. Poi hanno tenuto aperto il pledge manager fino a gennaio del 2018. Poi sono quasi falliti. Potevate ordinare il gioco fino a... e c'è chi l'ha fatto ordinare il gioco nel gennaio del 2018. Questo ha voluto dire che la Panda, che era la casa cinese che si occupava della creazione fisica del titolo, si è trovata di fatto ad avere delle ondate di ordini un po'... Ondate anomale direi. Capodanni, robe varie. Questo ha diciamo creato ulteriori difficoltà nella realizzazione del titolo. In questo gioco si è fatto 4 capodanni cinesi ragazzi. Esatto. Allora, di fatto cos'è successo? Che, ok, si sta lavorando per la qualità. Il problema è che è arrivato a un certo punto, i becker non ne potevano più, loro non ne potevano più, l'hanno rilasciato. Ci sono state tante critiche perché alcuni adventure book sono stati stampati male, le versioni quelle tradotte non erano ancora disponibili. Ci sono un bel po' di errata che abbiamo visto personalmente. Erano previste nella campagna che sarebbero state tradotte a livello professionale, tanti hanno cominciato a tradursi le cose da soli. I tedeschi e gli italiani stanno ancora aspettando di sapere se verrà mai tradotto. Io sinceramente non ho ancora capito, non ho ancora finito di leggere tutto il posto di Tana dei Goblin. Quindi tanti, tanti problemi e quest'estate partirà la nuova campagna per poter ordinare Middara di nuovo. Quindi Kickstarter estate 2019 partirà Middara second wave. Ci siamo per il 2023, ci siamo. Diciamo che è auspicabile che stavolta sia una campagna con delle tempistiche umane. Sarà un'altra campagna da 400.000, 500.000 euro e con consegna probabilmente un anno e mezzo perché bene o male secondo me hanno stampato roba in più, un po' ce l'hanno già. Cercheranno di sistemare, creeranno una versione del manuale non di 400 pagine ma ridotta con meno testo. Di 380. Di 320, sì esatto. E quindi vabbè, vedremo cosa succederà. Ecco, ragazzi, che cos'è esattamente però Middara? Come ho detto è un mondo in scatola, fa parte appunto di questa categoria di giochi giganti che hanno proprio tutto dentro e sostanzialmente il cuore di tutta questa roba che vi arriva tra miniature, anche non male, planche, mappe, manuali eccetera. Tutto, io oserei definirlo, non male. Esatto. Tutto non male. Il core di tutto è questo gigantesco librone che narra una storia, la storia di quattro adolescenti che sono a scuola, ma non è la scuola, una normale scuola sulla terra, è la scuola per diventare cittadini di Middara. Ma pensiamo se come dire adesso si inisce un classico. No, no. Middara è un mondo, un metapiano a cui è possibile accedere dalla terra attraverso alcuni portali. Solo poche persone nel mondo hanno la possibilità di accedere a questi portali. Chi lo fa può, a suo piacimento, andare su Middara e assumere le sembianze che vuole. Può essere chi vuole. Il mio personaggio era una normale cameriera in un hotel e però in Middara era la figlia del principe, era praticamente sangue blu, una specie di demonietta con svariati corni e poteri magici e questo attinge a piene mani a quella che è tutta un'iconografia tipicamente dei giapponesi, dei mangaka e degli anime che tutti quanti vediamo. Da One Piece, dove uno dei personaggi nostri era praticamente identico a One Piece, a Naruto, My Hero Academia, ma c'è davvero di tutto anche nei videogame dal punto di vista giapponese. C'è un po' di Dark Stalker, c'è un po' di Full Metal Alchemist, un po' di tutto perché le icone da cui prendono sono quelle. Esatto, nel suo cuore pulsante comunque è un gioco che si rifà alla cultura soprattutto estremo orientale, coreana, cinese, giapponese, degli MMO, cioè dei massivi online dove è possibile interpretare un personaggio e dargli le fattezze, le potenzialità e un po' le caratteristiche che vogliamo dargli. Per chi ha visto Sword Art Online. Esatto, non è come un gioco di ruolo dove io faccio l'arcere, tu fai il guerriero, cioè i personaggi sono molto misti, hanno tanti elementi diversi, anche un po' funky, un po' diversi dal solito e in questo gioco non esiste la classica classe, non esiste il tank, il curatore, cioè tutti fanno un po' di tutto, qualcuno ha degli incantesimi più specializzati, qualcuno è più forte a fare danno, qualcuno è più debole, però tu te la puoi cavare un po' in tutte le situazioni. Il party è composto da quattro personaggi che sono sempre quelli e sono Zeke, Nightingale, la ragazza quella che faceva un sacco di danno che adesso non mi ricordo come si chiama, e Lillard che si chiamava Rufus, Rufus Ravcat. Perché questi quattro individui si trovano lì? Sono tutti terrestri che hanno questo alter ego nel mondo di Middara, ma sono giovani e devono, fanno, formeranno un gruppo che verrà testato dagli insegnanti della scuola di Middara e se avranno successo potranno diventare cittadini effettivi di Middara. Questo processo copre i primi quattro scenari di 64 compresi nel libro. 64! E sono quelli che abbiamo giocato nel pomeriggio a casa di Flavio. Siamo riusciti a diventare cittadini di Middara dopo i quattro primi scenari. Ovviamente ragazzi i primi sono velocissimi, ve lo dico, in quattro ore e mezza, cinque, li abbiamo fatti tutti. Fate conto che materialmente il primo scenario ha tre plancette, gli altri ne hanno una media di quattro. Esatto. Il gioco è sostanzialmente un dungeon crawling misto a combattimento tattico in cui avete, siete pin di equipaggiamenti, reliquie, raccogliete soldi, premi eccetera e al termine dei quattro scenari avrete alla fine una pagella finale che dipenderà dalla vostra prestazione complessiva sui quattro scenari. Alla fine del must si chiama l'esame. Esatto. E vi daranno il voto. Ecco, noi abbiamo concluso questo mini arco narrativo. Ovviamente poi non sappiamo che cosa ci aspetterà nel mondo di Middara. Quindi non è che possiamo dirvi ragazzi Middara è una figata, Middara non è una figata perché noi abbiamo, se Middara fosse un enorme magione, noi abbiamo visto la porta d'ingresso. Siamo arrivati, ci siamo guardati un attimo intorno e però quello che abbiamo visto ci sembrava giusto condividerlo con voi amici ascoltatori. Devo dire, non so dove ti porterà la storia, la mappa di Middara è gigantesca ed è compresa nel gioco, è una specie di foglio a tre pieno di location incredibili. La mappa è molto Final Fantasy 9. Assolutamente. Avete un sacco di location da poter visitare, esplorare eccetera. Quindi noi abbiamo praticamente assaggiato il prodotto. Il party è fisso, voi non potete scegliere altri personaggi perché? Perché quei personaggi sono la storia. Il libro di 164 pagine non è come quello di Gloomhaven dove ogni pagina ha la sua avventura staccata dalle altre o meglio che vive da sola. Voi dovete leggere il libro una pagina dopo l'altra e in queste pagine si alterneranno fasi puramente narrative in cui uno dovrà leggere agli altri, fasi di libro game in cui si sceglie cosa fare, un personaggio o il gruppo scegliono cosa fare, fasi di combattimento in cui si parte, si dispone la plancia e si deve risolvere un obiettivo. A seconda di quello che succede, a seconda della prestazione avuta, si leggono determinati capitoletti e si va avanti in un certo modo. Il libro quindi è proprio un libro. Cioè non è un accompagnamento. Il gioco è il libro. Non sono scenari a sé stanti ma è proprio un'esperienza totalitaria. Ogni scenario, anche solo nell'introduzione, era introdotto da parti narrative molto ben dettagliate in cui sembrava di leggere un libro o un manga. Avevi proprio dialoghi che parlavano anche di altre cose. Questa prova, questi quattro scenari, si sviluppano lungo tre giorni e due notti. Durante le due notti i ragazzi sono accampati e parlano tra loro. Non c'è nessun'attività che viene svolta dai giocatori. Semplicemente si legge la storia e si cominciano a conoscere i background. Io lavoravo in hotel, i miei genitori vogliono che io faccia il contadino come loro, ma io voglio fare l'avventuriero. Ah, ma gli avventurieri hanno una vita corta. Sì, però io alla fine voglio questo. E Flavio, che è molto avanti nella campagna, ci ha detto che succederanno delle cose a questi personaggi, succederanno delle cose molto... Scriptate. Sì, ma anche molto pesanti. Cioè, voi... Cambiamenti radicali proprio. Anche perché si gioca sempre solo in quattro. Quindi non oso immaginare che cosa possa succedere ma non si va avanti. È probabile che per chi ha giocato Final Fantasy VII, accadano delle cose vostro malgrado. Eh sì. Scriptate. Chi ho orecchie per intendere, Final Fantasy VII. Ma la mia domanda è, avete idea, Flavio, magari vi ha dato qualche hint sul fatto che poi i personaggi anche cambino radicalmente nel conseguimento del gioco? Non lo so, non lo so. Allora, c'è un utilizzo dei dadi custom di questo gioco che fa intendere che ci sia una potenziale crescita pazzesca. Ci sono nove serie di dadi, dalla più debole alla più forte. Banda si è anche calcolato le medie numeriche di questi dadi. Beh, è abbastanza, cioè, per dirvi. C'è una progressione piuttosto omogenea. Tipo il primo dado di media ha quattro, il secondo quattro e mezzo, il terzo cinque. Quindi si va su più o meno, ragazzi, nel senso più o meno di mezzo punto per ogni dado. Esatto. Questo vi dà l'idea che tra il primo e l'ultimo dado c'è uno swing di numero allucinante. Allora, tu parti e sostanzialmente nelle prime avventure riesci a giocare la serie base di dadi, livello 1, livello 2 e livello 3. Anche io avevo un'abilità che mi faceva utilizzare il mitico dado arancione che era quello di terzo livello. Però la quantità di dadi, la quantità di equip, le più di mille carte comprese nella scatola tra equip. Miseria. Sì, sì, mille carte che sono quasi tutte equipaggiamenti unici, con quattro diversi livelli di rarità, sembra davvero di giocare a un videogame, sono incredibili. Ecco, ti faccio una domanda relativamente a questo discorso di crescita barra eventi scriptati. Sì. C'è una sorta di equilibrio mentale del personaggio fra la sua realtà, quella terrestre e quella invece su Middell? Allora, per quello... Viene in qualche modo... Per quello che abbiamo potuto leggere nei primi tre capitoli, che sono quelli che ti fai facendo questo primo pomeriggio insieme, sostanzialmente loro sono dei ragazzi giovani, non giovanissimi, che però hanno assunto delle sembianze ideali, cioè delle cose che a loro piaceva fare. Il personaggio di banda è chiaramente un personaggio paradossale, figlio di un adolescente che ha voglia di un personaggio gigantesco, con i martelli giganti, che però cura, che però è vestito in maniera... Non ha l'armatura. Cioè, dici, ah, quel grosso avrà l'armatura, no, va a giro a petto nudo e smartella e la mia aveva tutta una serie di cose, si muoveva molto, molto brava con lo stiletto, però pochi colpi, tanto danno. Invece... Quello con la falce volava, poi arrivava, era magari fragile di costituzione, ma quando colpiva, se colpiva, distruggeva tutto. Quello che volevo capire è se toccano un po' il discorso della generazione perduta giapponese, cioè se c'è un metagioco fra il tuo io reale e il tuo io. Non lo sappiamo. È troppo presto. Quello che tu riesci a capire in questi primi quattro è che loro erano persone normali sulla terra, pieni di speranze, pieni di voglia di fare, pieni di voglia di fare avventura, di spaccare tutto. Però non sappiamo come questo loro impeto giovanile poi si scontrerà con le avventure che gli verranno assegnate nel mondo. Noi sappiamo solo che questi vogliono fare gli avventurieri, vogliono spaccare tutto, vogliono diventare, non vogliono fare, voglio dire, i contadini Sumidara, perché Sumidara tu puoi fare tutto quello che vuoi. Cioè tu puoi anche metterti... Tra il mercante. Ma c'è una cosa che non puoi fare. Perché giustamente Flavio ci ha detto, ma ragazzi, Sumidara è tutto figo, sulla terra c'è una vita ordinaria. Per quale motivo la gente non va tutta Sumidara? O quelli che sono Sumidara ogni tanto tornano sulla terra? Perché Sumidara non si può avere figli, sei sterile. Non sappiamo a che livello sei sterile, del tipo... Non esiste. C'è un discorso assoluto. Magari manca totalmente il discorso del sesso, oppure semplicemente non è possibile avere figli. Però questo aspetto forse verrà più avanti, arriverà più avanti. Comunque, fatto sta che le persone devono tornare indietro. Anche questo io credo che aprirà tutta una serie di scenari narrativi che vedremo potenzialmente se sarebbe, sarà possibile esplorare nel corso, ripeto, dei 64 scenari. Ricordatevi che comunque tutto questo è sostanzialmente il gioco, diciamo percola in un gioco che è sostanzialmente un mega dungeon crawler misto combattimento tattico con equipaggiamenti, poteri speciali, poteri unici, abilità che puoi usare solo una volta durante tutta la sessione, abilità speciali che si refresciano ogni turno e ci sono i classici status, avvelenato, stordito, eccetera. Confuso. Non c'è problema, immoleremo Mac, la carta di credito di Mac e procureremo... No, a me onestamente è rimasta la curiosità soprattutto di vedere come si sviluppa la storia e la maturità che questa cosa riesce a sviluppare e quello che abbiamo visto e quello che mi ha sorpreso molto è stato il metodo con cui sono riusciti a creare l'esplorazione. Con i totem, sì. Con i totem, tu ci sono dei... ci sono praticamente... la mappa è precostituita come per esempio, non so, Rise of Moloch, tu hai giù le tile e cominci a piazzi già i cattivi. Sì, piazzi buoni e parti. Ci sono degli spot che si attivano in linea di vista, appena questi spot ti vedono si attivano delle cose, ma tu non sai che cos'è. Nella prima avventura, ve lo dico ragazzi, succede dopo un turno, ma il spoiler, c'è lo spawn di mostri. Tu parti senza mostri, ti giri, giri l'angolo e vieni sorpreso dai mostri e questo simula molto bene l'essere sorpreso dai mostri. Quella mitica scena di banda che fa ragazzi sono il tank, vado io, ovviamente non ero il tank. Bastonato come... Mangiato vivo. No, perché la base è questa, guardo, e nella mia caratteristica defense c'è scritto 9. Ovviamente voi dite, beh ragazzi, defense 9, sono il tank, poi ho scoperto che tutti hanno defense 9 in questo caso. Eh sì, è vero. Quindi ho detto, ops, forse non lo ero. Forse girare a torso nudo mi avrebbe dovuto dire qualcosa. Arrivo e faccio, vabbè, vado io tranquilli, passo la linea in cui il totem mi vede, arrivano tre mostri di pietra che mi sbranano letteralmente. Beh, non si è accorto che aveva le cure però. Beh, ma non potevo, non potevo, e sarei morto comunque, perché non potevo curarmi mentre loro mi attaccano. In ogni caso questi totem in realtà attivano anche cose molto particolari, tra cui può essere nuove vie d'uscita, eventi particolari, ed è un sistema molto semplice e molto... ergonomico per far scorrere ed evolvere il semplice... il semplice paesaggio, il semplice, diciamo, labirinto che vi trovate di fronte. Poi c'è il terreno bloccante, qui c'è anche un discorso di altezza, ci sono quindi delle tile sopra l'altra, se tu cadi da più di tre piani di altezza, di differenza, cioè se da altezza 4 vai a altezza 1 muori. Ah, ok. Se cadi ci sono dei burroni pozi senza fondo, non puoi cadere. Ammetto che ci sono delle meccaniche che a me hanno fatto divertire, rabbrividire e contemporaneamente tenerezza, perché lo vedi proprio che voleva in certi momenti diventare un simulativo. Ah, ok. Perché tipo, la meccanica che mi ha colpito e mi ha blastato mentre Flavio la spiegava era quella del saltare i burroni. Allora, tu per saltare i burroni devi tirare un dado e fare tot, ma se hai vicino uno più forte di te, lui ti lancia e ti dà un bonus, ma se non hai vicino quello forte tu salti al buio e dall'altra parte c'è uno agile, può tenderti la mano e prenderti, e quella è la meccanica per saltare i burroni, quindi ho pensato, immaginati, anche le salite hanno questa roba del, questa è una salita 1, poi c'è la salita 2 e la salita 3, allora se tu dalla 3 salti alla 2 non succede niente, ma se dalla 3 salti alla 1 ci sono delle cose strane, ma sono simulative che vanno troppo in profondità, secondo me sono semplicemente sintomo del fatto che è un gioco di 4 anni fa, che quindi poteva tranquillamente ripulire questo tipo di meccaniche, micromeccaniche un po' complicate e sgranularle in un modo molto più senso. Posso dire che secondo me non è giusto dire così, perché è sì un gioco di 4 anni fa, però in realtà il regolamento l'hanno continuato a modificare, sono uscite 8 pagine di errata di faccia. Immagino che cosa fosse prima, ecco nel senso per esempio ci sono tutte le errata, Flavio aveva preparato addirittura delle schede con gli errori corretti, quindi questa è una criticità che però penso che chi stia valutando di fare la campagna, la futura campagna di acquistarlo usato, non ci saranno problemi. Quindi ragazzi, Middara è un mondo vero e proprio gigantesco, ma soprattutto è una storia che si dipanna in questo mondo grazie alla vostra unica guida che è questo libro qua. Banda vuoi dire due cose? Allora, il mio punto di vista su questo gioco è questo qui, innanzitutto premetto che sono partito estremamente scettico, ma nel corso della giornata mi sono molto divertito con il mio tavolo di gioco appunto, con gli elementi descritti prima, complessivamente è stata un'esperienza che io ripeterei perché mi ha fatto divertire. Alla fine il rapporto tra il tempo speso per imparare il gioco, giocare, fare e materialmente quello che tu fai turno in turno, quanto ti appaga il gioco eccetera, devo dire tutto sommato è un gioco più che onesto che fa il suo dovere nonostante sia di qualche anno fa, ok. La seconda cosa è questa, a livello grafico, stilistico e di storyline, questo gioco io lo trovo opinabile, nel senso è un gioco che secondo me divide molto il pubblico, in quanto io amo molto gli anime e i manga, ma riconosco che dopo tanti anni che vedo anime lego manga, il Giappone ha creato ormai delle figure, degli stereotipi pazzeschi che in questo gioco bene o male abbondano. Inoltre è molto eccentrico come gli anime di ultima generazione, ok, in cui ci sono questi studenti con dei passati molto tormentati che vanno in giro e fanno cose pazze, quindi se voi amate questo genere di storia, che qui è preponderante ragazzi perché non è come Gloom Evening in cui il gioco meccanico ogni tanto incontra la narrazione, qui proprio la narrazione è la schiena su cui si basa tutto. Flavio mi ha detto che il 30% del tempo al tavolo è lettura. Ah sì, perché più che altro la lettura racconta che cosa accade ai personaggi, il perché loro fanno le cose, come si rapportano tra loro, la costruzione di un'amicizia eccetera quindi ti deve piacere quel taglio giapponese assurdo e non è un prodotto per tutti perché ovviamente ha quel taglio lì, noi magari siamo più abituati alle robe alla Massive Darkness, alla Zombicide, quindi il classico Guerriero Fantasy, le robe più la Game of Thrones, un fantasy più classico, questo qui è davvero assurdo giapponese, però se a uno piace quel mondo lì, secondo me è un prodotto che dovrebbe provare perché può dire tranquillamente la sua. Per il resto ha secondo me lo stesso problema di Charterstone, ovvero tu ci fai anche 10 scenari, in realtà hai visto la punta dell'iceberg, ma per un tale manuale narrativo con un impianto del genere, per essere giudicato nel suo insieme, deve essere giocato dall'inizio alla fine, perché semplicemente noi non sappiamo se lo scenario 30 sarà identico allo scenario 8, in quanto questi mostruosi giochi, anche Glumeven è un po' ripetitivo onestamente, devi proprio Charterstone? Sì sì, no no no, Charterstone nel suo genere, piazzamento laboratori, per essere giudicato per essere giudicato, tu devi farci tutta la campagna, perché ci sono persone che l'hanno trovato molto ripetitivo, infatti qua nessuno vuole giudicare, no certo, non voleva fare un parallelo con il discorso. No, ma è per dire, perché giustamente chi ci ascolta dice, sì ma alla fine cosa ne dite? E io vi dico, guardate, io ho visto la porta d'entrata, come ha detto Jack, e mi sono divertito, però, ripeto, è un mostro di gioco, è un mondo, e ci vogliono non so, 6 mesi per farlo tutto, dopodiché, col senno di poi, tu puoi dire, beh, tutto sommato questi 6 mesi che ho passato a giocare a Middara, sono stati spesi bene, sono stati spesi bene, alla fine, anche perché ragazzi, in questo gioco, tu hai 4 personaggi e sono quelli, sì, qui è una scelta radicale, ecco, non si sa se quelli te li porti fino in fondo, probabilmente no, probabilmente o non tutti, o non tutti uguali, sì, certo, esatto, Io direi che sono abbastanza d'accordo con Banda, c'è l'aspetto del fatto che questo gioco attinge molto, molto pesantemente alla cultura RPG estremo orientale, e se vi piace quel mondo lì, buttatevici perché non ha concorrenti, cioè, non ci sono alternativi a Middara, Middara è una cosa unica, se vi piacciono i giochi giganti che vi offrono un mondo intero, mesi di gameplay e quel tipo di flavor, vi dico, a livello meccanico funziona tutto, non ci sono grossi dubbi, si va avanti abbastanza velocemente, posto che ovviamente, come in tutti i giochi di quel tipo lì, vi troverete le prime volte a consultare il manuale, piuttosto spesso, a meno che non abbiate il mitico Flavio di fianco, perché vi dico che le quantità di volte che nella prima ora di gioco abbiamo chiamato Flavio per chiarimenti alle regole è stato abnorme, ecco, e si fa grande uso di dadi che per questioni numeriche hanno uno swing orrendo, quindi alle volte il gioco è un po' frustrante perché ha un vostro compagno di gruppo che rolla a manetta battuto dritto uccide tutti e voi per un po' non fate un cacchio, comunque si riequilibra, nel corso del tempo mi pare di capire che la crescita dei personaggi sia abbastanza omogenea, devo dire, mi è venuta voglia di farci un altro po' di partite e di vedere che cosa succede, anche perché appunto gli scenari che abbiamo giocato sono chiusi in una specie di arco narrativo che si è chiuso e volevo capire che come procedere, però davvero non c'era il tempo e tra l'altro abbiamo anche corso, perché l'ultimo scenario invece di prendere un bel voto abbiamo abbastanza abbiamo abbastanza fatto una bella corsa verso la chiusura dello scenario, mi è piaciuto il fatto che gli scenari abbiano obiettivi diversi, mi è piaciuto il discorso che ci sia una parte esplorativa, le parti di libro game sono interessanti, l'intelligenza artificiale dei mob è molto brillante, anche se dà addito a qualche piccolo dubbio soprattutto nella parte movimento, ma in realtà sono cose minori, quindi il gioco c'è, il gioco c'è, è lì, c'è qualche swing, c'è il dubbio sul discorso a chi piace il party normale, sicuramente non può giocare a questo gioco qua, se uno vuole fare l'healer, uno il dps, uno il tank, non potete farlo, però per il resto vi lascia tanta libertà, ci sono 900 carte di equipaggiamenti incredibili con 4 livelli di rarità, quindi vuol dire che il mondo è pieno di cose da prendere, esplorare, far combinare tra loro per far evolvere il personaggio, quindi di fronte a voi c'è tutto, posso dire anche a un prezzo che per il volume di gioco, è ridicolo, totalmente ridicolo, lo trovate usato, che comunque lo rincarano sempre intorno ai 200 euro, il titolo invece in campagna se non sbaglio erano 120 euro, 100 dollari, compreso in spedizione dovrebbe essere 120 euro, ragazzi è ridicolo, quando vedete la mole di roba che ci ha mostrato, guardate le foto, è roba da 350 euro, anche perché io per esempio devo dire che a me, ripeto, questo mondo qua mi ha abbastanza intrippato e mi ha dato, io non ho grossi presidizi, ti incuriosisce perché non è uguali, cioè Gloomhaven era quello che aveva degli elementi più strambi, tipo il mio personaggio che era fatta di minerali, però qui sono proprio fuori, cioè tutto strambo e per carità i cattivi che abbiamo trovato in realtà sono abbastanza ricondussibili nel mondo fantasy piuttosto standard, sempre mondo animista giapponese, però ecco diciamo che soprattutto il cuore molto orientale è quello della narrazione dei personaggi che sono i protagonisti della storia, perché appunto, ripeto, questo vi porta ad essere protagonisti di una storia, ecco, ripeto, se il gioco non vi dovesse piacere, comunque non è una grossissima tragedia perché il prezzo sarà piuttosto contenuto, adesso non lo so, cioè comunque diciamo che, oddio sulla nuova campagna dici, potrebbe, non lo so, non si sa, aspettiamo di vedere, non ci sono neanche rumor sul momento. Detto questo, ragazzi, io mi sento di consigliarlo se avete A, voglia di un world building gigante e B, vi piace il tipo di feeling e taglio orientale dal gioco di ruolo alla Sword Art Online. Se vi piacciono queste due componenti e avete un bel gruppo, io non vedo problemi, non vedo controindicazioni, il gioco meccanicamente gira, funziona, salvo fatto il problema dell'errata che, ripeto, dovrebbe essere corretto con la nuova campagna. Nuova campagna di sicuro, si sono già dichiarato che sistemeranno tutto il manuale e proporre una versione ridotta del adventure book. Perfetto, io ringrazio, spero che, ah, mi raccomando ragazzi, bisogna sapere l'inglese a bomba perché se non vi godete la storia, il 30% del gioco va in bacca. Ma dovrebbe comunque uscire quello scaricabile PDF italiano. Che vi consiglio assolutamente, anche se sapete bene l'inglese, perché c'è tantissimo da leggere. Io ringrazio ancora tantissimo Flavio e la sua splendida famiglia che ci hanno ospitato il pomeriggio. Flavio non aveva interesse nessuno, ragazzi, non è che lavora per la succubus, semplicemente lui ha fatto un bel gruppo, ha preso tre copie di Middara, le ha messe tutte nella stessa stanza e ha fatto un mega evento. Bravo Flavio, con tanto di adesivi, ricchi premi e cotillion, le bottiglie di PC, ha ospitato credo anche Marco. Vabbè Marco ha venuto dalla spezia, si è fatto quattro ore e mezza di auto e ha riuscito a dormire le notte giustamente. Bene, e con questo ragazzi io chiuderei l'episodio 99. Davvero ricco. Davvero ricco. Io sono Jack, io sono Banda, io sono Neck e io sono Ale. Ci sentiamo e ci vediamo il 9 maggio alle 21. Mi raccomando ragazzi. E come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao. Ci vediamo alla 100. Ciao ragazzi. 100, 100, 100, 100. Ciao.